Buonasera amici cripto investitori e bentrovati a tutti quanti sul canale di Mr. Rip. Sono dovuto intervenire personalmente mentre Mr. Rip è occupato con le bambine per dare una svecchiata a questo canale. Prima cosa, basta con Ben Felix, basta, dite la verità. Siete mai riusciti a guardare un suo video senza addormentarvi dopo dieci minuti? Sì? Sicuri? Bene, d'ora in avanti, basta, passiamo a qualcosa di più divertente. Il nuovo guru del canale sarà lui, Paperone, re della finanza. E mettiamo subito mano al famoso spreadsheet. Eccolo qui. Dunque, vediamo un po' questo spreadsheet. Cosa abbiamo qui di bello? Beh, innanzitutto subito tra le spese via le babysitter, che tanto non servono a nulla. Le farà d'ora in avanti Mr. Rip così fa qualcosa di utile. Ecco qui. Dove sono le babysitter? Ecco qui. Zero. Tanto non vengo mai, quindi. Ok. Poi studiamoci quest'asset allocation qui. Cos'è sta cosa? Dov'è? Cosa sono sti grafici inutili? Ah no, è di qua. Vediamola, vediamola, vediamola. Historical 2023. Eccola qui l'asset allocation. Buoni postali ITA. Ma non c'era neanche mia nonna. Questi qui sostituiti con BTP. Anzi no, facciamo le cose fatte bene, che qui non è che. Insert one row above. BTP Italia. Maggio 25. Ok. 16.824. E qui zero. Poi, le crypto, dov'è la parte su cosa? Polkadot. Cos'è? Una danza ungherese? Vabbè. Vediamo, vediamo, vediamo. Cos'è sto fondo? VYMI. Basta. 257.000. Siamo impazziti. 257.000 su qualcosa di, non so, thailandese, secondo me. Un bel ETF thailandese. Allora, vediamo qui, ricerca ETF. Eccola qui. Thailandia. Eccolo un bel X-Trackers, MSCI, Thailand. Vediamo com'è. Allora, allora, allora. Grafico, performance. Oh, beh, è andato giù, è andato su, è andato giù, è andato su, è andato giù. Per forza adesso va su. Non ci piove proprio. Però la Thailandia tutta quanta mi sembra un po' eccessiva. Vorrei una ancora un po' più settoriale. Ad esempio, che so, la zona di Pattaya, che è una zona molto vocata al turismo. Ah, che succede? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è che sta? Cosa? Ridammi lo spreadsheet. Ridammi lo spreadsheet. Ciao Paolo. Si è tolto anche 100.000 euro così, al volo, per sbaglio. Ok, ok. 250.000 euro su Pattaya, Thailandia. Scommetto che la gente della chat sa di cosa si tratta. Pattaya, Thailand? No, tu non lo sai ed è giusto che non lo sappia. Non lo so, non lo posso, penso di non poterlo sapere. Però è bello, allora, lo prendo come consiglio finanziario, quindi se è anche liable nel caso. Per la prima volta devo dire non è un consiglio finanziario. Vedo, vedo che la gente ha delle opinioni su Pattaya e credo che... Ah, stanno famoso. Ah, ecco i commenti. Andrò a studiare, andrò a studiare. Ciao Paolo, ciao Paolo, benvenuto sul canale finalmente. Grazie. È un po', è tanto tempo che mi dicono, che mi dicono, ah, dovresti fare una live con Paolo Coletti, live con Paolo Coletti, live con Paolo Coletti, e ho visto diversi tuoi video, lo sappiamo, ho fatto una, una simpatica reaction che deve ancora uscire. È uscita prima la tua re-reaction che la mia reaction originale al tuo video, perché c'è il montatore che sta... Ah, perché l'hai fatto io su Twitch e non su... Sì, devo ancora pubblicarlo, e sto indietro tantissimo, per cui è fantastica sta cosa. Fra un po' pubblicherò il video a cui tu hai fatto reaction, e che hai fatto questo qui, è il video di cui parliamo, di Paolo che ha fatto reaction, sulla... su io che commento la tua asset allocation, che sarà un po' uno dei temi centrali di oggi. Adesso non facciamo vedere tutto il video, perché chi vuole se lo vedrà e troverà anche in descrizione. Allora... Vieni, vieni, non l'avevamo preparato, cioè lui, io non l'avevo preparato, non sapevo cosa ti aspettava. L'avevo preparato io. Ha detto, autolegati alla, 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 alla sedia per... Avevo pensato di andare direttamente a Zurigo e farla dal vivo, ma era eccessivo. È un po' troppo, un po' troppo. Ma ti aspetto, eh, se vieni ti aspetto. Allora, per, eh, per chi, eh, non conosce Paolo, eh, puoi darti, puoi presentarti... Finanziariamente, accademicamente, ludicamente, o youtubeicamente? Oh, anche ludicamente, abbiamo, abbiamo novità. Abbiamo visto, ho, ho, ho da poco scoperto anche alcune altre cose in comune che abbiamo. Benissimo. Sì, è vero. Saranno per la prossima... Vabbè, questa sarà per la parola, salto ludicamente, buonasera ragazzini, ok. No, io effettivamente non riesco a non rispondere alla chat, ma eviterò di... Ah, uh, con calma, con calma, c'è tempo, c'è tempo, vedrai, vedrai. Ok, allora, ogni tanto metterò qualche, qualche, qualche commento in highlight, tu non ti, non impazzire, non so sempre da rispondere tutti subito, eh, gestiremo, gestiremo. Ok, va bene, dunque, sono Paolo Coletti, diciamo quindi accademicamente, accademicamente sono un matematico, ho il dottorato in matematica, ho fatto tantissime cose diverse e questo probabilmente è anche il motivo per cui non ho mai fatto carriera, è perché si viene penalizzati nel mondo accademico se si saltella troppo, ho fatto fluido dinamica, poi mi sono occupato di linguistica, facevo speech recognition per chi fosse del settore e poi sono approdato alla finanza e finanza sempre dal punto di vista informatico, quindi faccio dal data analyst, tengo il database del gruppo di finanza, faccio qualche algoritmo, faccio network analysis, ecco, questo è sostanziale, sono ricercatore universitario al momento. Vabbè, ho un canale YouTube, il canale YouTube era nato originariamente, semplicemente come un deposito delle mie lezioni, perché avendo, c'era un periodo in cui insegnavo a 150-200 studenti e avevo la coda davanti all'ufficio, allora per sfoltirla ho messo i video delle lezioni su YouTube e devo dire che si è sfoltita parecchio la coda, poi alla fine il canale che dal 2013 è nato solo come contenitore, piano piano tra una cosa e l'altra, metti un video divulgativo di qua, metti un video divulgativo di là, gli studenti stessi mi dicevano porf metta, 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 allora ho messo, 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 a un certo punto ho parlato della tassazione delle criptovalute che a voi fa paura, botto di visualizzazioni, poi ho parlato del BTP Italia e lì altro botto di visualizzazioni da un pubblico completamente diverso, proprio se hai passati dai trentenni ai sessantenni e io mi ci metto in quest'ultimo gruppo, quindi ho i due picchi di odio. Ah che sì, che non sappiamo la tua età, questo è un segreto diciamo. No, l'hai spiattellata la volta scorsa. Eh ma Paolo, io ho nel mio CDA, ho nel mio consiglio di amministrazione, ho gente che è ex scia, ex NSA, tu pensi di scappare così? Esatto, infatti no, ho chiesto come hanno fatto ma ancora non mi hanno detto esattamente come, ma vabbè, eh sì, sono più vecchio di Mr. Rip, questo vi basta. Di poco, di poco. No, la barba bianca, insomma poco, insomma. Sai, al video, al video di reaction volevo quasi rispondere, ho visto che c'è il figlio di Paolo Coletti che ha fatto la reaction, perché t'hai sbarbato. Ah perché sì, sono apparsa all'improvviso sbarbato, esatto. È vero. Tra l'altro stanno ancora facendo video su YouTube con me col barbone, quindi... No, non sono le due, ma devo smetterla di rispondere, di guardare la chat, perché mi viene da rispondere a tutto. Eh, sono impazzisci, impazzisci. E io considerate che sono abituato in aula, dove è un miracolo se qualcuno alza una mezza mano per usare e fare una domanda, quindi di solito risposto. Tu fai anche delle live, tu hai aperto un canale, hai detto quindi molti anni fa, per mettere le lezioni a registrare, quindi ti registravi in aula e mettevi le lezioni. No, 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 in aula non è il caso di registrare, soprattutto sono in aula da 150, perché tu stai usando il computer e io spiegavo cose, sento del rumore da te. Sì, 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 oggi purtroppo... Puoi intervenire? Puoi andare avanti da solo? No, non ti preoccupare che già mi hai comprato troppi, già mi hai venduto i Polkadot, questa danza ungherese mi hai venduto, mi hai venduto... Già, hai fatto troppi danni al mio spreadsheet, vado 5 minuti in là, perdo altri 300k in fondi di energia burundese, lascia perdere, va. Non mi ricassi le lezioni, no, registrare in aula non è possibile, perché io spiro cose al computer e se devo anche registrare un casino, quindi io me li preparavo prima, quindi io la preparazione che ogni buon insegnante dovrebbe farsi prima a casa, me la faccio e la facevo registrandomi, praticamente. Sì, all'inizio pensavo non servissero a niente, poi ho visto che è arrivato uno studente in esame e mi ha detto, professore, è la prima volta che la vedo, e io dico, bene, abbiamo studiato, abbiamo... e lui fa, no, ho guardato tutto su YouTube, dico, ah, allora ho capito che servivano. Bene, quelli contenuti sono ancora disponibili, c'è ancora gente che li guarda a distanza di anni o ogni anno le facevi nuove? No, allora, gli studenti adesso, posso rispondere a una, hai messo il telo davanti allo specchio? Sì. Ah, vedo, vedo, sì, c'è... Aspetta che mi sto, mi sto ammazzando, qui sì sì, c'è il telo davanti allo specchio, altrimenti vedevate me che... ok. I contenuti sono ancora tutti disponibili, ma gli studenti non li usano più, grazie Lorenzo. Adesso ti cambio il voto retortivamente adesso, un attimo. I contenuti sono ancora tutti disponibili, gli studenti non li usano più, perché adesso da quando c'è il Covid e io registro direttamente la lezione e gli studenti hanno il sospetto che io durante le lezioni in aula dica delle cose segrete che non dico nel video e quindi ok. Quindi loro vedono... Tutti guardano solo la lezione registrata in aula e non quella registrata offline, che spesso è fatta anche meglio, perché quella registrata offline la monto, quindi... E anche perché immagino che hai fatto, diciamo, un corso simile su più anni, iterando la versione poi offline diventa quasi perfetta a un certo punto, perché la puoi... Sì, se la cambi, dopo un po' di anni smetti però... No, è chiaro, è chiaro. Interessante che le università abbiano spinto per questa forma un po' più telematica, cioè... Guarda, prima del Covid stavamo lentamente iniziando, ma lentamente iniziando vuol dire che vedevo i miei colleghi che volevano la telecamera in fondo all'aula che li riprendeva mentre faceva una lezione, e io spiegavo... Guarda, non è fondamentale quello, cioè... In realtà gli studenti, se uno non fa vedere cosa è compiuto, l'audio è... Basta e avanza. Allora, qui, insomma... Insomma, poi ci sono discorsi seri. La donazione in live è un po' questo? È imputabile come corruzione? Beh, tranquilli, fa le donazioni a me, per cui non è un problema. Sì, infatti, arrivano a lui. Infatti, io nelle mie live ho cassato le donazioni per evitare questa evenienza. È un casino, lo fanno, lo fanno... Bene, bene, vedo che comunque ti conoscono qui in chat da me, e... Fa molto piacere. Quindi tu sei professore... Io conoscevo poco di te, ho visto dei video... Ricercatore. Ricercatore. Ricordo che in Italia i ricercatori non hanno il titolo di professore. Ma so anche che, per quello che ricordavo io, qualche anno fa, forse più di dieci, erano... Non erano più neanche strutturati, nel senso che il ricercatore una volta era il più... Sono a tempo determinato. Io sono ricercatore a tempo determinato da undici anni. Porca miseria! No, il precariato... Alla tua età! Alla tua età! Aspetta, poi l'ho fatto altri otto da ricercatore a tempo determinato in un altro istituto di ricerca, dove facevo speech recognition. Paolo, ma tu arriverai in pensione da precario? Il mago del precario. Ok, ok. Il mago del precario... Beh, dai, diciamolo chiaramente. Chi fa l'informatico, cioè, è avvantaggiato, perché, onestamente, trovi lavoro facilmente. Cioè, vedo... La mia università continua a bandire posti da ricercatore in informatica. Non perché ne ha bisogno, ma perché la gente... A bandire nel senso... Sono banditi, via, basta. No, bandire nel senso che escono i bandi. Ah, e fare bando, fare bando. Sì, ah sì, scusate, usavo un termine tecnico da... No, no, però ci sta, ci sta, ci sta. Cioè, io sono retario in progress, tu è essere assunto in progress, ok? No, no, io sono bene abbastanza conscio che andrò in pensione da precario. Anche se il mio capo insiste, il mio capo che saluto se mi guarda, il mio capo andrà in pensione tra due anni, insiste perché io spinga per diventare a tempo indeterminato. E dico, ma divento a tempo indeterminato, poi vado in pensione. Sì, ma l'importante... Beh, indeterminato significa che diventare associato, devi vincere un concorso associato. Sì, sì, diventare professore associato, sì. Sì, in realtà non è così, perché rispetto a quando la facevi tu adesso ci sono delle vie più traverse. Sì, diventi ricercatore segno e poi dopo un po' di anni, se certe condizioni, baci, cicocò, ok. Ok, perfetto. Sì, comunque non è che piango, insomma, non è un problema. Sì, no, poi tanto... Tanto i bitcoin. Tanto i bitcoin. Molto solido. Allora, hai detto, hai detto ricercatore, insegne all'università di Trento. Scusa, devo rispondere alla financial dependent, col capo che a tempo determinato guadagni di più dell'indeterminato all'università. Vabbè, basta, giuro, non rispondo più alle iniziativa alla chat. Vedo che c'è anche... Hai fatto un pack di contratti a tempo. Che tu non lo sai, ma ho fatto tre video sul pack. Li recupererò e sono rimasto un po' indietro. Bene, vedo che la gente è arrivata, ci sono più di 500 persone, fa molto piacere, ragazzi. Allora, Paolo, noi abbiamo un succoso menù. Ci siamo anche confrontati in maniera sincrona per mettere insieme un po' un documento, delle idee di dialogo. Tutto è nato perché io ho fatto una reaction una decina di giorni fa, o forse due settimane fa, non ricordo neanche più, al video con cui Paolo mostrava come lui investe. È un video vecchio di inizio anno. Scusa se interrompo per un problema tecnico. Qui mi da recording error, non vorrei che ti si fosse sputtanato il recording. Dai un'occhiata sotto. No, tu continua, non ti preoccupare. Tu continua. Avere un informatico in live ti tira fuori. No, tranquillo. Potrebbe andare pure a petto. Io sono antifragile con la tecnologia. Mi succede tutto, mi cresce tutto quanto. Prima laggava, tenevo la mia wifi. Se la bimba sta vedendo Frozen, ma penso di no. che oggi purtroppo abbiamo avuto in belletto tardi, sono ancora sveglia. No, tutto a posto. Tranquillo, tranquillo. Io capirai. Poi dovesse crollare c'è il VOD su Twitch da tirare giù. Il montatore farà... Tanto il montatore è tornato. È in vacanza. No, è tornato. Adesso Pasqua si lavora. Ah, se tu lo fai lavorare a Pasqua. È certo, è certo. Sennò qui non mangiamo il panettone. No, è il panettone. Ma non mangiamo l'uovo nessuno di due. Dicevamo, tutto nasce perché Paolo fa dei video a tema finanziario. La cosa molto molto bella dei video che fa, che sono spesso supportati da dati, da spreadsheet, da codice. Fa simulazioni, non chiacchiere basta come il sottoscritto, ma mostra dei dati molto molto interessanti. Il video a cui ho fatto reaction era un video sul come tu investi. E' stata molto divertente. E sono uscito fuori un bel po' di cose. Alle quali poi tu hai fatto una reaction che mi sono visto due volte. E ho sbobbinato tirando fuori un po' di idee, punti. Io vorrei far vedere alla gente, ma non la farò vedere la sbobbinatura. Cioè, 43 pagine. Quando ci metto un articolo, i revisori dell'articolo scientifico sono meno cacacazzi. Cioè, veramente. E qui hai detto questo, ma... No, ma erano solo spunti. E basta, hai ragione su tutto. Erano spunti. Erano spunti. Spunti di riflessione. No, erano ragione su tutto. Anzi, ecco. Ecco, una cosa che vorrei dire, perché questo è un bel argomento, un meta argomento, si tende oggi poi nel mondo dei follower, nel mondo dell'online, inteso come tizio asfaltacaio, lui ha ragione, lui ha torto. Qui non stiamo affatto cercando ragione e torto. Ammetto che anch'io, vedendo il tuo video, mi sono fatto più domande. Ho imparato delle cose nuove, interessanti. Ho visto altri punti di vista. Su alcune cose penso di avere delle posizioni solide. Su altre no. Però, comunque, ho... C'è sempre da imparare. Nel senso che non stiamo qui per vedere chi ha ragione e chi ha torto. Questo è il concetto. E un'altra cosa che ci siamo detti, che è molto interessante, è che non stiamo neanche qui a fare una gara retorica per convincere nessuno. Quindi stiamo qui per discutere di contenuti interessanti. E laddove non abbiamo dati, o non abbiamo... O la cosa, o l'analisi li chiederebbe più tempo, ci alziamo bandiera gialla, dicendo... E devo dire anche laddove, magari c'è la risposta nella letteratura, ma andrebbe letta con cura. Esatto. Perché gli articoli scientifici vanno letti con cura. Vedere se si applica proprio al tuo caso o no. Esatto. Bisognerebbe anche controllare quello che hanno fatto, ma quello adesso non esageriamo. Sì, anche perché spesso... Cioè, pubblicazioni sono fatte anche per inseguire impact factor e altre cose. Adesso vabbè, mettiamo in dettagli e tu lo conosci anche molto bene sicuramente. Abbiamo un menu ampio. Purtroppo ammetto che non ho avuto molto tempo per andare lì e risistemarlo bene, ma partirei da cose cose base. del tipo, intanto, perché investiamo? Perché investi? Qual è l'obiettivo? Tu hai detto, io non investo per mantenere il potere d'acquisto, investo perché voglio fare soldi. Questo forse è un po'... Possiamo mantenere questioni un po' filosofiche, ok? Però... Puoi argomentare meglio sul perché investi per fare soldi? Allora, sedetevi che farò una lunga lezione. Ok. Allora, cosa voglio fare io? Io ho questi soldi e il mio scopo è massimizzare il mio rendimento. Ok, però attenzione, massimizzare il mio rendimento. E entra subito in scena il fattore tempo perché massimizzo il mio rendimento quanto? Quando? Chiaramente se lo massimizzo tra un mese è molto meglio che non se lo massimizzo tra due anni. Ok. Quindi in realtà massimizzerei il mio rendimento annualizzato. Laddove si può annualizzare? Perché già ci potrebbero essere delle occasioni di investimento che non possono essere annualizzate. Tipico esempio, ho investito in una altcoin, ho fatto più 500% in un mese. Io non è che posso dire che ho fatto più 7 milioni annui. No, perché mesi dopo non sarà così. Quindi in realtà laddove può essere annualizzato io massimizzo il mio rendimento annuo. Ok. Tenendo conto questo, entrono in scena altre due cose. O meglio, una cosa. Il fatto che il mio rendimento finale io non lo so. Quasi tutti gli investimenti non lo sai. In realtà anche sugli investimenti considerati sicuri tu non lo sai. C'è sempre la possibilità di cigno nero. Quindi io sul rendimento finale, annualizzato, ho una curva di distribuzione. Quindi il mio rendimento si distribuisce. Ok. A questo punto io cosa massimizzo? Massimizzerò la media di questa curva. Come si fa? Pino ora sono sul classico. Cioè si fa così, classicamente. Si massimizza il valore atteso di questa curva. Preferisci che prendo... Posso interromperti? Prendi appunti. Se volessi chiederti delle precisazioni puntuali. Si chiedi, chiedi, chiedi. Ma il rendimento finale? Per te ogni investimento c'è un momento in cui sarà finito quell'investimento? Per me investire è un processo continuo. Sono sempre investito, starò sempre investito. Non è che ogni singolo investimento ha inizio e fine. A meno che non c'è qualcosa di palese. Iniziamo proprio col filosofico, bene. Ok. Sì, bond hanno una fine. Le azioni... Io di solito sul rendimento gli setto una fine. Gli setto una fine 10, 15, anche 20 anni. Mh. Perché... Sì, ok. Poi dopo che fai? Non investi più? Oppure ogni singola operazione, intendi? Sì, ogni singola operazione, sì. Ok. Ok. Quindi mi setto una fine mentale, almeno. Ok. E questo aspetta, mi serve la fine, dopo vi dirò perché. Ok. Quindi già si vede una differenza però rispetto forse al classico. Il classico va a guardare la distribuzione anche nella durata dell'investimento. Io invece guardo solo quella finale. Quindi se io compro un investimento che mi fa meno 99, e resta inchiodato a meno 99, poi alla fine schizza su, e io ho qualche motivo per credere che alla fine schizzi su, a me va bene. E da questo punto di vista sono molto molto tollerante al rischio, quindi. Anch'io, come tutti però, non voglio la coda negativa. Quindi la distribuzione sarà... Adesso io sto disegnando col ditino una gaussiana, ma ovviamente non è gaussiana. Se sarà gaussiana avrà una coda negativa e come tutti io voglio evitare il pezzo più negativo di quella coda. Quindi voglio evitare tipo la perdita di tutto. Beh, su ogni singola, se ora stiamo parlando di ogni singola operazione, qualcuna perderà anche tutto, è normale. Però qualcuna farà più 1000%, è normale. E' vero, mi stai facendo pensare a cose, sì. Effettivamente è vero. Perché se faccio difficoltà a isolare ogni singolo pezzo di investimento? Sì, in realtà ti confesso che adotto un approccio ibrido. Cioè lo faccio sia su un singolo investimento, sia su un asset class globale. Il tuo aggregato azionario, ad esempio, è fatto da tanti pezzettini. Esatto. E non è che quella lì è una scadenza. Tu investirai per sempre, immagino. Cioè, stai sempre dentro in qualche modo. Sì, esatto. A 80 anni. Beh, oddio. Ogni tanto tiro fuori, devo dire la verità. Certo, sei dentro, tiri fuori. Quello, ok. Però, appunto, mi manca una visione un po' più di insieme del tuo modello di investimento. Cioè, sono tutte operazioni singole, separate? Oppure c'è... Stiamo entrando un po' in dettagli. Diciamo che... Andremo un po' a... Seguiremo un po' l'onda energetica. Ogni tanto le codino. Ogni tanto le codino. Perché ovviamente, per chi ha visto il mio portafoglio arcobaleno, che comunque io ho disegnato una torta col tuo, è venuto molto più arcobaleno. Ma ok, è imbogliato. Perché il tuo hai tutti i fondi pensione spezzettati. E quindi sono venute tante fettine. Però mi ero fatto una torta col tuo. Ehm... Io metterò qualche commento in highlight. Prendilo come spunto se lo vuoi inserire quando ti capita. Come incremento il tuo rendimento atteso e come lo calcoli. Quali sono le verabili consigliere? Ok. Eh, sì. Ehm... Allora, sì. Di solito guardo per asset class. Ehm... Però non necessariamente. Ogni tanto mi guardo... Ad esempio, sui bond, sulle obbligazioni, guardo il singolo bond. Vorrei che non mi fallisse il singolo bond. Ok. Il singolo bond è più facile isolarlo come investimento. Sì, esatto. Sì. Le azioni... Che la scadenza è forzata. La scadenza è scritta nel bond. Sì. Diciamo che quando mi sono falliti i bond argentini mi sono girati le palle come non mai. Ehm... Tango bond. Sì, sì. Sono così vecchio che mi sono fatto fallire i bond argentini in mano. Ok. Ehm... Mentre invece sulle azioni, quando è fallito l'ETF russo, so che sto girando il coltello nella piazza. Io ne avevo di più di ETF russi, forse. Dopo facciamo la gara a chi ne aveva di più. Non ho dato testate sul muro perché ho detto, vabbè, c'è lo standard EPU che ha fatto più tozza. Fa parte del... Sì, fa parte del blocco. Sì. Però per me quella è stata... Per me quella è stata... Ho provato, ho lanciato... Ho lanciato un chip... Un chipone e ho detto, oh, se va bene... Ho giocato un po', ho fatto un po' gambling, non era un investimento vero e proprio. Per me. No, e devo dire... Adesso che mi ci fai pensare, in realtà, anche sui singoli investimenti azionari, io voglio evitare la coda finale. Cioè, quindi, se io avessi saputo che c'era la possibilità che qualche... Che il gestore delle TF me lo delistasse, io l'avrei venduto. Anche a meno 50, a meno 60. Cioè, quando è iniziata la guerra, io non ho venduto perché ho detto, vabbè, inizia la guerra, me li bloccheranno per tot tempo, poi ritorneranno quotati, mi beccherò il meno quello che è, ma mi ritorneranno quotati. Se avessi saputo che c'era la possibilità, e lì colpa mia che non ho studiato le regolette, ma chissà dove era scritto, se avessi saputo la possibilità di liquidare direttamente l'ETF a quasi zero, allora non l'avrei venduto subito, non l'avrei tenuto, avrei tagliato la coda anche lì. Ok. Quindi sì, alla fine mi sto rendendo conto che forse vado anche sui singoli investimenti, voglio evitare la coda della perdita totale dell'asset, quindi che non mi dà più quindi la possibilità di arrivare a fine vita dell'asset. Ok. Ah, mi hai girato perché io... Sì, così sembra che ci guardiamo. Sì, perché io ho la telecamera leggermente a destra, se posso metterla anche centrale, ma poi... No, no, vai tranquillo, è che io ho due schermi, mi sono messo sull'altro schermo in modo che sembra che ci guardiamo, così anche il montaggio è più carino. Quindi in realtà io evito quella coda. Secondo me la differenza grossa sta, uno, che io guardo quasi esclusivamente o forse solo il rendimento a fine vita, poi diciamo la vita che io stimo per quell'investimento, e due, che io quella coda lì, probabilmente rispetto a te e rispetto a tanti, tollero molto di più perdite su quella coda. Ok. Quindi in realtà, insomma, basta che non mi faccia il dramma e poi mi va bene. Quindi tanto se volete proprio delle stime sull'azionario, detto onestamente, sono contento se dopo dieci, quindici anni non mi è andato in negativo. Ok. Quindi... Quindi la coda per me... Per difendere il potere d'acquisto. Una delle frasi che avevi detto. Qui si apre un altro dibattito che abbiamo già avuto. In realtà io e lui ci siamo visti in una piccola riunione che doveva essere piccola, ma abbiamo fatto un'ora e mezza di live. Esatto. Ma se la registravamo, l'abbiamo già risolto. Se registravamo, l'abbiamo già risolto. Ok. Tanto chiedo... Scusate, visto che... Un piccolo feedback tecnico, se ci dite se l'audio è equalizzato per entrambi bene, perché non so se io il mio microfono è abbastanza alto, però... Ok. Perché mi arrivano messaggi privati. Anyway. Anyway. Poi arriveremo anche a domande tipo questa qui con camera. La mettiamo. Audio perfetto. Perfetto. Ok. Questa è una domanda. Questa è una domanda un po' core del... Uno degli argomenti core. Comunque la risposta alla seconda domanda è no. Qual era la seconda domanda? Ci sono dei vantaggi matematici. Ah, ci sono dei vantaggi matematici. Ringrazio quello che nella tua live precedente ha detto... Ah, avrà sicuramente calcolato le correlazioni. No. Confesso. Ora ci arriviamo, ci arriviamo. Stiamo partendo un po' alla larga, ma ci arriviamo. Parleremo un po' di... Molti dei punti che erano in... Come dire... Sulle quali potremmo avere visioni diverse, ma... Ci arriviamo. Era Federico il bidone. Comunque appunto... Introduco il risk adjusted return. Tu mi hai parlato del risk adjusted return. Ecco, io non aggiusto il ritorno in base al rischio. Quindi non è che il ritorno lo diminuisco perché un asset può essere... più rischio dell'altro. Non è che sei tu che diminuisci il ritorno. Cioè che delle asset class hanno ritorni attesi, valori medi, diversi, in genere in maniera correlata con il rischio. Cioè... Sì, di solito sì. Principio chiaro, principio ovvio è che due asset che hanno stesso ritorno atteso, se uno è più volatile dell'altro preferisco quello meno volatile per l'ossa version. Quindi se mi dicono vuoi 10 euro sicuri o vuoi lancio una moneta e che poi lancio una... Non so... Un dato a 20 facce e quel numero esce in soldi, valore atteso sempre 10, 10,5 in quel caso. Vabbè, ok. L'umano preferisce una certezza a un qualcosa che ha più volatilità ma con stesso valore atteso. Quindi in genere a cose più volatile corrispondono ritorni attesi maggiori, altrimenti il mercato li riprezzerebbe tali che il ritorno atteso sarebbe maggiore. Sennò la gente non li comprerebbe. Ehm... Quando io parlo di rischio già spiegato intendo appunto dire per un asset class particolare o per un allocation particolare tu puoi avere un ritorno a te. Due asset... Due allocation con stesso ritorno atteso ma una con più volatilità è in genere sfavorita. E questo in teoria nella letteratura finanziaria è quello che si dice l'unico free lunch che c'è la diversification, no? Perché non investire tutto su una singola azione ma comprarsi l'indice? Perché una singola azione, se supponiamo un mercato efficiente, ha lo stesso valore atteso del mercato stesso, però ha fluttuazioni molto più ampie. Può fallire o fare 100 per. Per cui stai pagando in volatilità per una cosa che non è compensata. quella che Ben Felix, che qualcuno ha detto di lasciar perdere Ben Felix, viene chiamato un compensated risk. Quindi in teoria uno... Cos'è che... Cos'è che ho visto? Tu ho visto che hai il cappellino di Google, hai il cappellino da Googler. Il mio è tarocco, il mio è quello tarocco e si vede anche dai colori. No, è pezzotto, ma cos'è quella cosa lì? Io non ho lavorato a Google, cioè... Non c'era Google quando ho iniziato a lavorare. Dico questo piccolo aneddoto su Google. Lavoravo in un studio di ricerca, arriva un mio collega, filosofo peraltro, mi fa sai che c'è questo nuovo motore di ricerca, Google? Io dico, vabbè, proviamo, provo, lo provo un attimo. Dico, vabbè, funziona meglio di alta vista. Però con quel nome non se lo ricorderà mai nessuno. Tra l'altro era un misspelling perché l'entità matematica, diciamo il 10 alla 100 era chiamato un Google, scritto Gogol, però era già preso il dominio. Per cui, il fatto che qualcuno aveva già preso Google, appunto, com, ha fatto sì che Google facesse un misspell apposta e prendersi un dominio. E quindi si chiama così, se no si chiamava Google, scritto diversamente. Fantastico. Ok. No, stavamo parlando di viaggiando. Tu dici che non è giusto il ritorno, non sei tu che lo aggiusti, è il mercato. La mia critica era, scegliendo cose diversamente da una location, market cap weighted, oppure facendo stock picking, in generale tu hai, come giustamente hai detto, dove sta scritto che il mio fa un rendimento migliore del tuo? Assolutamente nessuna parte. Anche un gatto che investe cliccando a caso, compra N titoli a caso, può tranquillamente battere il mercato o ha lo stesso ritorno atteso. Però se non diversifichi come si deve, e ora vediamo che significa, il tuo rischio è che a parità di ritorno atteso rischi di avere molta più volatilità, per cui lanci un dado più ampio, con più possibilità di ritorno, ma anche possibilità di perdita. Ti dico due cose che voglio dire. La prima è che io diversifico solo su asset che hanno lo stesso ritorno atteso e non con asset che hanno un ritorno atteso inferiore. Con asset class, intendi? Tipo... Sì, asset class, sì, certo. Ok. Quindi io diversifico in azioni, punto, non metto dentro le obbligazioni, perché le obbligazioni hanno un ritorno atteso inferiore, a meno che non abbiano un ritorno atteso uguale, in qualche caso compro le obbligazioni, non compro le azioni. Ovviamente nessuno comprerebbe azioni se avesse il ritorno atteso uguale, ma volatilità più bassa. Ovviamente ci sono obbligazioni che hanno un ritorno atteso più alto, tipo quelle i junk bond, se compri un bond di una nazione che sta per fallire, può avere un ritorno atteso più alto, ma molta volatilità è molto correlata con le stocks, per cui no. Però si copri il bond, più sono stabili, ovviamente più basso è il ritorno atteso. Quindi ok, quindi non hai obbligazioni. Mentre normalmente uno diversifica mettendo obbligazioni nel portafoglio, io mi rifaccio proprio all'esempio base, l'esempio classico che si fa quando si dimostra che diversificare conviene è quello degli ombrelli e gli occhiali da sole. Due aziende, una produce ombrelli e un occhiali da sole, se l'estate è piovosa quella che produce ombrelli ha più successo, se l'estate è soleggiata l'altra ha più successo, a parte il fatto che non è vero, perché di solito... Vabbè, a parte questo, comunque è uno diversifica e così ha lo stesso ritorno atteso, ma con una volatilità minore. Ecco, io faccio così e prendo asset che hanno lo stesso ritorno atteso. Chiaramente asset class hai ragione tu, perché ovviamente l'ETF messicano non so se ha proprio lo stesso ritorno atteso dello Standard & Poor's. Ma tecnicamente se fosse diverso, cioè in teoria avrà un ritorno atteso magari più alto dello Standard & Poor's 500 ma con volatilità ancora maggiore. Altrimenti se così non fosse la gente lo venderebbe. Sì, certo. Penso che sia una questione di leggi di conservazione di qualcosa. Sì, sì, certo. È vero, sì, certo. Perché molti dicono no, è sicuramente monnezza, quindi vendono, quindi in teoria il prezzo è basso. Quindi in teoria chi decide di comprare è perché dice, certo ha molta volatilità, però dalle mie studi fatti su base value investing questa roba potrebbe fare un 10% atteso invece che un 7 però potrebbe fare più 50 o meno 93 con un valore atteso più 10 però perché se fosse più 7 non lo comprerei e quindi il prezzo sarebbe più basso al punto che ritornerebbe essere più 10% il valore atteso. Sto mettendo numeri a caso ma il concetto è quello lì. Non è che c'è da qualche parte un giudice che fa aspetta e il valore atteso deve essere 10 ma è la gente che entra in quel mercato e il prezzo di equilibrio è tale che il valore atteso è più alto in un mercato più volatile. Però entrando un po' più, stringendo un po' di più, il valore atteso di un mercato, domande offerta, analisi fondamentale, tante cose, dati storici, bla bla bla. Però un mercato as a all, un indice di un mercato ha più o meno lo stesso valore atteso delle stocks individuali però ha molta meno volatilità. Per questo vi chiedo, tu facevi stock picking? Ah io? Prima di parlare adesso di diversificazione. Facevi stock picking? E lo fai ancora in parte. Quello perché? Per divertimento? Allora, adesso solo per motivi fiscali. Infatti ogni volta bestemmio di cosa devo comprare star host e robber. perché finché in Italia non toglieranno quell'assurda legge che non mi permette di compensare le minusvalenze con le plusvalenze da ETF, anche se adesso forse c'è un workaround, gli ETF a replica sintetica probabilmente non sono considerati ETF, ma sono considerati che fa fastidio quando le leggi ti obbligano a fare. No, ma non potrebbero lasciare compensare le perdite con le minusvalenze e le plusvalenze all'interno della stessa asset class. Che senso ha? Questa roba qui non la riesco a capire. Devo dirti come era una volta la legge? Una volta era ancora peggio. Era peggio? Sì. Peggio di cosa è difficile. Per punizione te la dico perché una volta sono andato in banca a protestare e l'ha detto titolo della banca, si è preso mezz'ora e me l'ha spiegata. Allora, una volta quando tu vendevi un ETF, l'ETF aveva il suo NAV, Net Asset Value. Il prezzo dell'ETF, allora se è un ETF si assesta abbastanza, sì, il prezzo dell'ETF deve andare più o meno come il NAV. In realtà si discosta un po' in sopra e sotto. Allora, gli scostamenti del prezzo dell'ETF rispetto al NAV quando hai venduto sono più svalenza, quando hai comprato sono meno svalenza e la variazione del NAV da quando hai venduto e quando hai comprato è reddito da capitale. Aspetta, però come fanno a misurare lo scostamento dal NAV? Loro hanno tutti i NAV di tutti i giorni, la banca lo faceva giù ed era una banchetta locale e infatti il tizio me l'ha spiegato e ha detto mi scuso ma è così. Questo però era per i fondi di investimento. No, i fondi in realtà no perché in teoria non hanno il NAV. Il calcolo è fatto sul NAV, è fatto su quello esattamente. Cioè loro calcolano il prezzo della share, però siccome il prezzo lo fanno a fine giornata, lo fanno sul NAV, non c'è un mercato secondario dei fondi di investimento. Invece un etf è tradato, per cui in teoria uno potrebbe anche partire come una scimmia e cominciare a tradare un etf di Vanguard solo perché Vanguard è più bello a un prezzo superiore al NAV. Però lì in genere è l'emittente stessa che arbitraggia su questo. Per cui dice, ah la gente sta tradando a 105, una roba al cui sottostante è 100, perfetto, compro altro 100 e lo metto a 105 e prendo la differenza. Quindi quello in teoria con gli etf ad oggi, con i frequency, c'è gente che ci arbitraggia su questa roba. Comunque la legge precedente diceva che... Era tre diverse tipologie. Wow. Le differenze dal NAV era folle. Infatti mi ero iniziato a segnare tutti i NAV a cui avevo acquistato. Allora per chi non sta capendo NAV dovrebbe essere net asset value. Net asset value. Significa il valore del sottostante per share ovviamente. Fantastico. Sì, siamo andati troppo sul tecnico. Ok, comunque se mi fai condividere lo schermo e giuro non ne ho visto... Sì, ok. Ok, no certo. Eccolo qui. Aspetta, è questo. Puoi zoomare un briciolino Paolo. Ok, un attimo, un attimo. Ok. Allora, io mi sono fatto, a seguito della nostra discussione, mi sono fatto come va la variazione... Ho preso lo Standard & Poor, analizzato così la gente capisce anche che tipo di analisi faccio abitualmente. Ho preso lo Standard & Poor, tutti i prezzi, eccolo qui, tutti i prezzi dal... Da che giorno? 1970. In realtà ho usato solo i prezzi dall'80 perché avevo bisogno di almeno dieci anni di dati passati. Allora, chi sta facendo domande interessanti, io sto salvando alcune domande e rispondiamo poi dopo su queste che sono fuori tema. Sono domande in tema, rispondiamo puntuali. Sono andate fuori tema, rispondiamo dopo alcune. Ok, e sono andato a calcolarmi il rendimento giornaliero, settimanale, mensile, annuale e decennale. Chiaramente vengono completamente diversi perché è quello decennale. Allora li ho annualizzati tutti, ok? E li ho plottati su Instagram. E li ho plottati su Instagram, questo Instagram qui. Allora, puoi spiegarci i vari colori cosa rappresentano? Sì esatto, aspetta che devo minimizzare. Vedo volatilità che aumenta. Esatto. Il giallo che sono i bond a un anno. No, 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 no. Allora questo è il rendimento annualizzato, quindi sono tutti riportati a un anno. Quindi quello annuale è rimasto tale quale, quello a dieci anni è schiacciato e riportato a un anno. Il rendimento annualizzato è lo standard and poor, se lo tieni dieci anni, se lo tieni un anno, se lo tieni un mese, se lo tieni una settimana. Allora quello rosso è se lo tieni una settimana ed è, va da meno 90 annualizzato. Quindi non è che ha fatto meno 90 una settimana. Certo, certo. Ma ha fatto meno 3 e annualizzato. Se ce l'avevi prima del Black Friday dell'84 quando era 87, allora sì, annualizzato fa un casino. Ok, è quello rosso chiaramente. Quello verde che già assume una forma un po' più dignitosa, perché qui c'è un picco, è quello mensile. Quindi il rendimento se tu tieni l'asset per un mese, quello blu, violaceo diciamo, è quello annuale, il rendimento se tu tieni l'asset dopo un anno e lo vendi. Allora, notiamo che c'è uno zero in mezzo, per cui in teoria sul giallo comincia a essere quasi tutto oltre lo zero. Esatto, e il giallo è quello se lo tieni ogni dieci anni. Ecco, io guardo questa volatilità, cioè nel senso che non guardo la volatilità giorno per giorno, ma in un giorno può farmi meno 4 che corrisponde a meno 90 annuale. Io guardo la volatilità del giallo. Quindi cosa succede dopo dieci anni che è il mio obiettivo di fine investimento? La sapevo un po' diversa, nel senso che in teoria sarei anche periodi anche di vent'anni a rendimento negativo in America. Beh, c'è un rendimento negativo perché questa colonna è negativa. Sì, arriva quasi almeno 10, almeno 5 annualizzato. Questo zero, in realtà, sai, Excel fa gli histogrammi male, devo dire, da questo punto di vista Google Sheet è meglio. Questa colonna che ha indicato zero in realtà sono quelli sotto zero, da zero a meno 10. Quindi ci sono rendimenti negativi anche a dieci anni. So che attorno ai 25 anni diventava di una predicibilità assurda il ritorno dell'S&P 500. Negli ultimi 150 anni è sempre stato superiore tra il 7 e il 2. Molto più prevedibili i cicli su 30 anni. Quindi questo è il motivo per cui io appaio un investitore esente, cioè che non guarda il rischio. Perché io guardo il rischio a fine investimento e quindi per me io ho questo asset e dico, questo asset si oscilla da meno 10 a più 30 annualizzato. Vabbè, mi va bene, me lo prendo. Beh, però sì, se lo rifai annualizzato, ok. D'altronde, anche una perdita del 99% sull'arco di 20 anni annualizzata sembra più, sembra, sembra sull'atto meno 7%. È ovvio che non potrà mai essere meno 99 annualizzato su dieci anni, significa che manco Montepaschi di Siena. Per cui, da una parte, finché sono lato negativo, andrebbe vista la perdita massima su tutto il periodo. Secondo me, però è comunque interessante. Aspetta, abbiamo anche quella, volevamo stupirvi con effetti speciali. Ok. Abbiamo anche quella, forse da qualche parte, un attimo che qui ho fatto 100 milioni di calcoli. Eccole qui, cos'è sta roba? Average, questa è la media, la deviazione standard. Queste sono le medie deviazioni standard, però non sono annualizzate queste. Vediamo se ho il minimo e il massimo, ma possiamo calcolarlo proprio al volo, guarda. C'è un mouse che flickera, mi dicono, infatti anch'io vedo un po'. Eh sì, lo so, lo vedo anch'io, ma il mio mouse non sta flickerando. Ok, sarà un lag di rendering. Mr. Parsing chiede, domanda, non l'ha aggiusta all'inflazione? Se vi interessa il minimo a 10 anni, sti cavoli, il minimo a 10 anni, il minimo a 45%. Ah vabbè... Eh, meno 50%, wow! È ancora dentro la mia coda! È aggiustato all'inflazione? O sono dati nominali? Questo qui è brutalmente standard e pur nominale, non è neanche quello con i dividendi, quindi rende un po' di più in realtà. Eh esatto, senza dividendi, perché 10 anni meno 50% rende un po' di più in realtà. Questo rende un po' di più in realtà. Questo rende un po' di più in realtà. Questo rende un po' di più in realtà. Senza dividendi forse, forse sì. Però, vabbè... Meno 45%. 2000-2010. Non esiste, in realtà non lo sono sognato. Non lo trovi. Puoi sortare... Vabbè, era una curiosità, chi se ne frega. Mi sembra comunque... Cioè, ancora io, se su 10 anni perdessi il 50%, starei un po' depresso. Nel senso che quella è la volatilità di cui parlavo. Tu dicevi, mi interessa la volatilità a fine periodo e non durante le oscillazioni. Però le oscillazioni possono portare poi a un punto d'arrivo che può essere da meno 50% a più 400% dell'intero portfolio. Per cui non ti preoccupi della un po' di downside protection, come dire. Perché non c'è... È sparito il meno... È sparito il giuro che non l'ho fatto sparire. Ah no, ok, scusate, sono questi, sono questi. È il 9-3-2009. Quindi dal 9-3-2001 uno ha comprato al top della internet bubble e ha venduto dopo il crash del 2008. Proprio perfetto. Ok, fantastico. E anche era un'epoca forse che il dollaro andava su, quindi forse in euro avrei... I conti sono fatti in euro o in dollari? I conti sono fatti in dollari. Ok. Sì, sì, l'ho fatto un conto alla buona, no? Non sono stato attento all'inflazione, ai dividendo, ho fatto un conto alla buona giusto perché... Chiaro. Perché tu mi avevi triggerato e io temevo che questo grafico non fosse così stretto. Quindi tu mi avevi triggerato e dico magari questa fascia gialla è molto più larga e quindi... E no, è che non può essere larga per definizione. Anche l'annualizzo, ok. Se lo fai su cent'anni diventerà una striscia strettissima perché è annualizzata e, come dire... Vai verso il teorema del limite centrale, se voglia. Diventa stretta come media. No, comunque l'ho fatto non per convincere nessuno ma... L'ho fatto non per convincere nessuno per far vedere cosa intendo io al termine dell'investimento. Quindi mi porta a casa eventualmente un meno 45%. Io però sono abbastanza sicuro che dall'altra parte c'è il 371 che mi soddisfa. Ok. Ovviamente. Ah beh, qui ho venduto al top della internet bubble invece. Vedete, ho venduto nel 27.4199. Beh, cavolo, in retrospettiva fantastico. Dico, tu quindi investivi in individual stocks? Lo fai soltanto... Io investivo... Lo fai tuttora soltanto... Ah, metto in background il tuo spreadsheet ma poi basta cambiare... Non serve più, non serve più, non serve più. Investivi in individual stocks solo perché... Aspetta che tolgo via lo spreadsheet... Ok, solo perché ho problemi fiscali, se no... A un certo punto ho detto, boh, basta con l'individual stock, che tanto vedo che non riesco a Scane 1 e sì, avevo Parmalat, perché vedo che qualcuno l'ha chiesto. Sì, avevo anche Parmalat e l'ho tenuta fino alla fine, orgoglioso fino alla fine. Peccato che non ho tenuto la documentazione, invece altrimenti avrei potuto partecipare la causa collettiva che ha fatto in America e hanno pagato anche gli azionisti italiani. Oh cavolo, ok, non lo sapevo. Eh niente, non ho tenuto la documentazione, vabbè. Cavolo, è roba storica, Parmalat, parliamo del fine... Cioè, il crash del 2001, 2004, quando era una roba inizio millennio. Vabbè, la mia curiosità era... Adesso le azioni singole sono solo per... Ok, quindi non c'è nessun claim di fare... Non c'è nessun claim di fare... Non c'è nessun claim di fare... Sono una gravatura di scatole anche perché mi danno la doppia tassazione sui dividendi. C'è pure quella. Quindi la doppia tassazione sui dividendi. Tu investi in azioni... Se compri azioni di paesi dove sono tassati, hai la doppia tassazione. Chiaro, hai comprato azioni su borsa italiana... Eh sì, ma guarda che non dipende dal mercato. Se tu compri Ferrari su borsa italiana, hai la doppia tassazione perché a sede legale è fuori dall'Italia. Però se... Ah, ok, è vero. Perché se hai un'azienda italiana puoi recuperare. L'azienda italiana è tassazione singola. Se è azienda estera, c'è la doppia tassazione. Se volete vi dico come si fa a evitarla. Voi dovete semplicemente andare all'agenzia delle entrate e chiedere un modello che è difficilissimo da trovare. Ce n'è uno per ogni paese dove avete subito la doppia tassazione. Lo presentate all'agenzia, lo compilate. Sarà nella lingua di quel paese, ovviamente. Quindi in olandese. Lo compilate... Perché tu la testa stai chiedendo all'autorità fiscale di quel paese. C'è un accordo di double taxation treaty tra Italia e quel paese. Per favore restituiscimi questo 15, 20, 30, 10, 40, 50% che mi hai trattenuto e poi ti prometto che pago le tasse in Italia. In Svizzera con l'America c'è abbastanza standard. È un solo modulo. Si chiama DA1. Ma riuscite a farlo facilmente? Sì, sono tre anni. Me lo fa la mia commercialista in tre secondi. Lo produce forse Interactive Brokers con un click. Produce un form diverso che è il 1029S. Quello americano che certifica la withholding tax. E poi questo qua, con quello lì, ci compiere in tre secondi la DA1 che serve all'autorità svizzera. Però si ripetono facilmente. Con l'America. Il resto delle nazioni non lo so e neanche lo voglio sapere. Io il primo anno che mi sono trovato ad affrontare questa cosa dico, capo, come sta il mio portafoglio, no? Ho azioni spavagliate in 10 paesi. Lascia perdere, esatto. Di cui metà non so la lingua. Questo è un pro per andare. Perché in realtà quello che conta è il domicilio del prodotto. Per cui se tu compri un ETF domiciliato in America che investe solo in fondi bengalesi... No, un ETF domiciliato in America comunque un italiano non conviene. Ah, no, è criminale. Perché c'ha il problema che va sul... Estate tax. Un ETF non sul... Ah, quello non lo so. Però so che se poi schiatti i tuoi eredi pagano il 40% sull'eccedenza di 60K che se uno ha un portfolio più grande di 60K è un problema. Perché non c'è un double taxation treaty sull'eredità. Mentre con la Svizzera c'è fino a 5 milioni. Penso Trump l'ha doppiato a 10 milioni. Quindi stiamo a posto. Fino al fat fire siamo coperti. Dico in generale, tu quindi... Stocks singoli soltanto per coprire le plusvalenze e le minusvalenze. E dirò che la smetterò anche perché sono stupido. Perché da un lato copro le minusvalenze e dall'altro pagano la doppia trastazione sui dividendi. Quindi ho stock singoli che non pagano dividendi ma... Vabbè, ok. Che ci sta? Perché in realtà... In teoria tu... Però tu le minusvalenze sugli etf ce le hai solo... Avendo tantissimi etf. Quindi anche se... Ce li ho. La Russia. E basta. Quindi lì hai minusvalenze perché tu in genere non è che vendi. Un etf non è che lo vendi mai. No. Tecnicamente lo tieni. Per cui le minusvalenze non ce l'hai mai. Ce l'hai se ti delistano. Capito una volta sola che ho dovuto venderli quando ho comprato appartamento. Quindi lì ho dovuto fare vendite massicce. Ho venduto quelle in attivo. Ho dovuto vendere magari qualcuno in passivo. E quindi lì... Però... Lì c'è... Lì compare un'altra domanda. Che è un altro pezzo. Tu spesso dici... No. Io voglio vendere quelli che hanno guadagnato di più. Vai a regalare tasse. Perché... Perché non fai un'ottimizzazione del tipo... Lost tax harvesting. Cioè... Ci devo pensare. Fare sempre vendere A e B in modo che... Paghi zero di tasse. Quindi... Gli asset impediti... No. Quello lo faccio sempre. Quello lo faccio sempre. Sempre. Se posso lo faccio sempre. Cioè se devo vendere due asset... Se quello che va in plusvalenza è in grado di essere compensato dalla minusvalenza... Quello lo faccio sempre. Cerchi di farlo. Vendo prima quell'altro e poi mi ricompro... Infatti quando vendo un'azione... Sento un po' gracchiare il microfono, il tuo. Non so se... Il mio microfono non è stato minimamente... Perfetto. Prova, prova! Adesso... Sento un po' gracchio... Non so perché... Adesso gracchio ancora? Sì. Ora vanno... C'è... Adesso... Adesso... E' il microfono della cuffia e poi ti gratta... no 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 il microfono è un signor microfono ok anche tu hai lo lieti come tutti prova ora sembra andare prova 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 dovrebbe andare meglio ho tolto eco cancellation ho fatto un po di cose io ok ok va bene comunque non era era un po fastidioso era un trucco mio per scamparmi la domanda alla quale non so rispondere la domanda comunque è a comunque un altro un altro un altro un'altra buona ragione di essere fatta e e la quale non so rispondere perché vendo le cose in attivo perché ad esempio supponi che io adesso infatti giusto mi è capitato giusto qualche giorno fa che il tetto fa acqua e io devo farlo riparare avevo bisogno di 5000 euro cosa vado a vendere mi sono visto il mio bel standard and poor che è a più 150 per cento di compito per quindi gli lasci il 20 e 21 perciò un po di meno perché il 150 per cento di fare la c'è 22 e 5 quando vedi 250 su 150 paghi il 26 per cento quindi rinormalizzandolo i tre quinti del 26 per cento sarà un 16 17 però sì quindi più le cose hanno guadagnato più tasse ci paghi il concetto qual è tu nel video hai detto io se ho tanti asset ne trovo sempre qualcuno che sta in attivo da vendere così lo faccio sia per ribilanciare sia per sentirmi contento che vendo solo cose in positivo e quindi ho fatto profit questo mi sembra un po i due argomenti no è psicologico è la parte del profit è psicologico è molto psicologico e poi anche potrei tranquillamente vendere un imperdita e anche la parte del bilanciamento se avessi un indice lo fa già internamente per cui il cercare di vendere quello alto perché vendo alto così poi mette di compro basso quell'altro se fare il bilanciamento è quello che un etf lo fa già di suo si è vero si si no c'è ragione e fai pensare in effetti metti che l'ha aggregato metti che metti con etf che ha due asset uno fa più 50 l'altro meno meno l'inverso meno 33 per cento la somma fa 0 se tu vedi un pezzo di quell'etf 0 paghi zero tasse se invece di due che sono cresciuti vendi tu solo quello che ha cresciuto ma hai fatto i stessi soldi identici dell'altro etf solo pagato tasse e ai meno soldi rimasti a maturare quindi è è solo per dirti sono ragionamenti che possono aver senso in termini astratti proprio concretamente con la tasca con gli aspetti fiscali diventano inefficienti a mio avviso ok no no io ah no ho venduto anche c'è qualcuno che mi accusa di mentire ho venduto anche i btp per il tetto ma ciccibelli il tetto non costa 5 mila avevo solo il tetto si fa col super bonus vedo molto 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 belle domande intanto belle riflessioni intanto c'è del tipo tu vendi investimenti o ti serve nel cash flow e non è una cosa in genere non non perfetta a quello serve il fondo d'emergenza è ok ma poi il fondo d'emergenza va rimpinguato comunque non investi per un po cioè tipo avrei un se sei inattivo se sei in passivo come me cioè se io vado io sono in deficit di blancio sono come il governo italiano a il cash flow negativo cavolo ah quindi stai già usando le rendimenti da investimento per arrivare a fine mese insomma ragazzi facciamo una colletta per far assumere questo contratto università guardate che professore che signor di qua che signor professore che sta precario da cent'anni non arriva a fine mese cavolo no non arrivo a fine mese perché sono uno spendacione perché chi mi segue anche sull'aspetto carte di credito sa quanto spendo al mese ah sì sì sono spendacione e oltre al tetto no io il fondo d'emergenza poi va rimpinguato in qualche modo tu dici certo se sei in in attivo di bilancio allora sì se sei in deficit di bilancio la colletta per coletti e ok però ho venduto anche i btp italia per il tetto scusate non ho potuto farlo col cento andremo 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 dritti un po zig zag ma andremo dritti ragazzi tranquillo no no adesso adesso prometto ci metto qualche obbligazione in più dai ci mettiamo qualche obbligazione in più quindi ok quindi in teoria tu stai già vivendo magari parzialmente tu puoi vederlo anche da questo punto di vista il mio stato del pur è arrivato a fine vita e io lo vendo no ci sta dal punto di vista filosofico sono a posto poi dal punto di vista fiscale mi ammazzo è vero chiaro chiaro perché ecco ancora questa è una differente visione filosofica sul fatto che tu vedi l'investimento come una cosa a termine per me l'investimento è uno status of mind io sono sempre investito quindi cerco vedo all'istante la macchina cosa sta producendo come sta cioè per me l'investimento è una roba che sta lì che non si tocca e tu metti i profitti cioè le cose che sputa fuori come gas di scarico quelli posso consumare la macchina per me è una macchina che sta lì per questo sono anche un po innamorato della filosofia diciamo dei dividendi anche se so essere fallaci però mi piace il concetto di lì sono gli investimenti sono i miei faccio questo esempio del bar no come se avessi 50 bar o ristoranti danno utili prendo gli utili il bar rimane lì l'anno prossimo rigenerà altri utili questa so è una fallacia però così però se sei in fase di decumulo tu dici io in realtà con gli investimenti ci sto campando non solo con quelli ovviamente ci sta che dici vendo un pezzo alla volta e vendo quelli più in profitto ci può anche stare c'è un'altra io non è che interessante è che è una chiesto perché non fare lombard credit lombardi invece che vendere paura voi sembra incredibile che uno che parla di che non si scompone se standard and pull fa meno 45 che hai non si scompone quando la terra luna che faccio così fare credit lombard ho paura beh per è in realtà è sensato aver paura anche perché dici io accetto volatilità estreme e non voglio fare una margin call cioè io ho una paura folle delle margin call sarà psicologico perché posso stimare quant'è la povertà è una paura booleana nel senso che se faccio zero prese o zero prestito e zero la proprietà se prendo in prestito 5mila su un portfolio non sappiamo le cifre ma anche se fosse 100 mila il portfolio il 5 per cento problemi tecnici a fare credit lombard dovrei mettere gli asset in qualche banca che me lo accetta il tuo azione esattamente da mia banchetta locale non so dubito seriamente che c'abbia no ma dico tu investirai da qualche parte avrei un broker avrei una banca avrei qualcosa la mia banchetta locale c'è tu gli etf i tf panamesi di compreso la guai da tua banchetta locale ti racconto una storia quando ne vado me ne vado che commissioni gli paghi cioè interactive brokers tira fuori un cretto lombard son tre clic apri l'account a margine con un clic e poi fai ok compro euro e vendo dollari anzi vendo euro e compro dollari e poi prelievo e ti trovi una posizione negativa di 10k euro e con calma ti racconto quando sono arrivato in quella banchetta locale arrivo in quella banchetta locale apro il conto e come prima cosa cosa faccio beh gli caccio 12 ordini su Stoccolma, Bruxelles, Lisbona torno il giorno dopo in banca, mi vede un impiegato che non mi aveva visto il giorno prima e fa, ah lei è quello che ha comprato tutta quella roba sull'estero deve essere stato il meme della banca uno che va a comprare Bruxelles, Stoccolma, Lisbona ed era ai primi anni 2000 comprare proprio in banca mi comprate come potevi comprare su Lisbona cioè potevi comprare su New York, su Milano online ma su Lisbona o andavi lì c'è questa leggenda un po' di racconti da boomer ho un caro amico ancora ancora uno dei miei migliori amici che sta a Roma da cui andavo a giocare a Dungeons & Dragons a casa sua e il padre era l'investitore da televideo cioè lui stava lì stava sul televideo vedeva le stocks e poi chiamava la banca e faceva comprare compra questo bellissimo io per un bel po' ho fatto gli acquisti al telefono in effetti cioè con un po' telefonavo ok ok ti posso comunicare che esistono strumenti un po' più efficienti ormai adesso mi sono finalmente tra l'altro penso quasi in diretta aperto aperto directa come tutti i cristiani sentito nominare io purtroppo non sto in Italia quindi non ho molta conoscenza con gli strumenti locali la mia banca locale alla fine dai non è male all'epoca faceva delle commissioni buone 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 devo dire e all'epoca le studiavo le commissioni poi ho visto che ho detto onestamente io mi muovo una volta ogni tanto quindi alla fine le commissioni non sono l'aspetto più importante tante sì questa è una cosa che che forse avevo detto nella mia reaction originale però alla fine l'avete mai accorto l'hai motivata e ovviamente a sé cioè tu non sei un trader se uno fa poche operazioni e quindi anche se le commissioni non sono super efficienti va bene uguale io ho una repulsione per le banche che ti fanno pagare 20 30 50 hai seguito quanto pare diciamo che io vengo da un periodo in cui le banche facciano pagare 0 7% che era un salato ha eseguito senza massimi senza massimi senza massimi quindi se fai un acquisto da 10.000 gli stai lasciando 70 vabbè 5.035 sì è orripilante era il massimo che consentiva l'ABI all'epoca l'ABI aveva la sindicazione non superatelo 0 7 tutti alignati a 0 7 ma no se poi se poi tieni per 15 anni chi se ne frega se fosse l'unico costo tu hai mai pagato anche casto di cost a casti di fiss alla mia banca ma di recente mi ha messo un casto di cost di 1 euro al mese posso tollerarlo direi vabbè sì posso tollerarlo considerando che è la banca locale diciamo che ho dei vantaggi innegabili butto la 1 sono andato in rosso su conto corrente mi telefona il private banker e mi dice dottor Coletti è andato in rosso su conto corrente io mi stavo già per iniziare con le scuse e mi fa quanto le devo fare di fido proprio dritta dritta una banca con line su conto corrente ti taglia le gomme della macchina ok vero diciamo che ho dei lievi vantaggi per la banca locale sì no non è l'unica in realtà che uso uso la banca locale uso directa usavo bink bank che poi è diventata generale di saxo adesso sto dismettendo in parte e quindi insomma ho vari broker diversifico anche i broker perché ho sempre la paura che qualcuno mi si blocchi ok ci sta ci sta in effetti ho sempre la paura che per motivi tecnici oppure per motivi giudiziari un conto mi venga bloccato quindi ho questa folle un giudice che io che ad esempio adesso che so vado da un giudice dico mister rip faccio una denuncia per mister rip magari anche ben circostanziata l'importo dei testimoni il giudice magari gli gira e ti blocca il conto blocca il conto io ho sempre questa fobia sarà che ho visto troppo un giorno in pretura ma ho sempre questa fobia quindi vari conti ok che è il motivo vi confesso è uno dei motivi per cui ho i bitcoin ok ora ci arriviamo anche alle cripto sì c'è chi fa notare io ho fatto degli elogi ho fatto degli elogi a fine eco perché ho tre amici che dalla Svizzera tornate in Italia con patrimoni superiore al milione ma so che già da mezzo milione fanno private banking che ha dei vantaggi enormi ha dei prezzi che sembra quasi interactive brokers che per me è il broker che uso io quindi esiste il private banking che dà vantaggi ma solo in termini di commissione private banking significa che hai un account da uomo con soldi per cui ti danno accesso a currency conversion economiche costi di transazione economici penso che ho anche un pdf con le informazioni ancora un po' vecchie ma non ha vantaggi di accesso a investimenti segreti perché la gente secondo me pensa che chi ha private banking abbia accesso a delle informazioni di investimento è una parola un po' overloaded perché ci sta il private banker come persona che ti amministra i soldi il family office e cosa è qui e cosa roba lì non ci credo un gran che perché gli vai a lasciare tipo il 2% di fee è sempre gestione patrimoniale ciao ma private banking come account è un account da persona accreditata uno non è un retailone quindi in teoria ti fanno condizioni più vantaggiose tutto qua e via quindi non so però la soglia penso minima per avere private banking al fine se non sbaglio è un mezzo milione e poi a un milione a vari scaglioni ti fanno sempre condizioni più convenienti vabbè al di là di questo qui però una risponda visto che l'han chiesto in 2-3 su la chat scusate se continuo a guardare la chat no no vai 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 se il giudice ti blocca tutto beh intanto il giudice non è una macchina quindi magari me ne blocca prima uno e poi l'altro dopo oppure soprattutto se l'altro è bink bank che era olandese mi sembra e quindi il giudice non è una macchina e soprattutto quando avevo iniziato a fare questa strategia l'informatizzazione non era ancora così avanti adesso probabilmente alla naga finito i conti all'epoca non lo so e poi vabbè ci sono sempre i prestanomi ovviamente e i bitcoin il giudice non me li blocca e quelli non ce la fanno ok vogliamo passare all'argomento paranoico abbiamo ancora altre cose che volevo un po' discutere sulla parte investimenti tradizionali poi passiamo al bitcoin non ti faccio far notte però magari ecco a mezzanotte ci arriviamo quindi preparati avvisa la famiglia mi sono chiuso dentro mi sono chiuso dentro altro argomento che volevo toccare è il seguente tu forse la parte che più mi ha toccato e più mi è piaciuta mi è piaciuta perché mi ha comunque smosso qualcosa tu hai più volte detto dove sta cioè non voglio essere investito in un etf world perché perché non voglio una esposizione 60% all'america dove sta scritto che essere esposto a 60% us è meglio che essere più un po' più distribuito equal weight che poi non è equal weight perché che fai fai 250 nazioni al 0,5% ciascuna è impossibile però la tua asset allocation in aree geografiche intanto dividiamoci a quello là è distribuita non non in maniera market cap weighted per il mondo ma non è che ho grandi osservazioni piacerebbe un po' discuterne ma penso che siamo d'accordo intendo che siamo entrambi agnostici cioè tu non puoi dire niente no 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 ma non sono neanche un grande supporter della mia azione mi ha fatto anche pensare che onestamente essere 60% in america è un bel rischio ci sta scommettendo su una nazione che ha già ha già dato chiedo che un po' di studi scientifici un po' di studi scientifici sul KPM dicano che che la market cap weighted è quella che ti prende tutto il market beta se non stai sovradimensionando un asset che in teoria ha meno peso relativo e quindi ti stai un po' più esponendo a individual stocks quindi alla fine vai ad avere stesso expected return ma con più volatilità è l'unica però stiamo parlando di briciole cioè tra uno che va 60% america 40% al resto del mondo a uno come te che avrà 15% america 10% UK 9% se non hai grandissime cose assurde che so 30% al Burundi onestamente cambia poco anzi in realtà mi ha quasi un po' affascinato sono quasi tentato a un po' verso la direzione se qualcuno in chat ha qualche argomentazione forte sono contento di portarla qui tu dici dici ci ho pensato quando ho fatto il video sulla diversificazione in cui mi sono dovuto chiedere perché io diversifico io che in fondo non guardo la fluttuazione durante l'investimento in fondo potrei anche quasi fare a meno diversificare e allora ho pensato beh in fondo di diversifico sostanzialmente per evitare il cigno nero quindi per evitare di beccare proprio l'asset che l'asset anche il macro asset quindi un etf nazionale che mi fa un pessimo risultato e il cigno nero però potrebbero essere anche gli Stati Uniti quindi se sono così fortemente sbilanciato il 60% sui Stati Uniti ed è lui il cigno nero cioè mi fa il nuovo Giappone eh questo è un good point onestamente questo è un good point preferisco metterlo il 15 diciamo che in questo modo io ok confesso che comunque anch'io metto il 15 non il 5 come il Messico certo beh si sarebbe si sarebbe anche eh anche perché a quel punto potrei dire dividere gli Stati Uniti a fettine ognuna grande quanto il Messico e dire poi soprattutto tener bilanciato un equal weight è complicato perché se poi l'America mettiamo che tu avessi fatto questa strategia dieci anni fa l'America nel frattempo era doppiata la sua percentuale oggi è 65% forse del mondo e magari prima era il 30 quindi mentre saliva facevi vendevi e ribilanciavi quindi stavi avresti perso in passato da un lato hai ragione ma dall'altro io ho appena preparato non è ancora uscito il video sul ribilanciamento e adesso l'ho fatto sulle azioni perché non ho abbastanza dati storici per farlo sugli etf gli indici mondiali non esistono da tantissimo tempo l'ho fatto sulle azioni ho fatto portafoglio che ribilancia portafoglio che non ribilancia e incredibilmente non ci credevano anch'io perché io non ero molto favorevole al ribilanciamento il portafoglio che ribilancia nonostante le commissioni non ho ancora incluso le tasse nonostante le commissioni performa meglio perché i mercati di solito vanno così quindi il portafoglio che salgono così quindi il portafoglio che ribilancia riesce un po' a vendere agli alti e comprare i bassi assumendo una certa ciclicità si l'ho fatto su lunghi periodi sulle azioni americane su azioni americane magari con ok però se prendi un etf US S&P 500 un etf Italia e ribilanciare mi sarebbe piaciuto farlo su quelli si se ti davi le martellate continuavi a comprare Italia e rimaneva al palo ok questo di Federico Bidone è un buon argomento il fatto che l'America ha costi più bassi che quindi rende il gioco più vantaggioso si non è che un etf Germania ha costi molto più alti diciamo però ci sta ci sta che è uno degli adesso dirò una frase impopolare impopolare e probabilmente sbagliata ma 0,8 di costo rispetto a 0,2 è uno 0,6 all'anno quando le oscillazioni sono 20 30% all'anno chi se ne frega ma dopo 30 dopo 30 anni se tu dici quello 0,6 in più pesa mentre le oscillazioni si smorzano quello 0,6 si cumula il moscerino che va veloce ma sta fermo e la lumaca che invece va piano ma dopo un'ora turni ha fatto un metro l'ha fatto si si quello 0,6 è tutto in una stessa direzione le oscillazioni vanno avanti indietro che poi hanno un drag verso avanti perché se no non staremmo qui a investire però comunque lo 0,6 integrato su un tempo durante lungo dà fastidio però immagino che se parliamo di mondo sviluppato non si arriva a 0,8 di TER però visto molti due prodotti ecco il discorso del TER è anche che lo affrontiamo perché avete ragione no ma avete ragione punto pago troppo di TER chiaro non c'è dubbio ridò una riguardata pesante ad esempio potrei prendere metà portafoglio non lo farò subito prendere metà portafoglio e cacciarlo dentro un etf mondiale punto e basta e l'altra metà tenermelo spezzettata così per quando devo rifare il tetto ok vedo che molti scrivono eh però no tanto se crolla l'america crollano anche gli altri su questo qui mi sento dire che non è mi sento di dire di no più che crolla possiamo ipotizzare un è una lenta saturazione nel senso che ormai magari un po' come il Giappone un po' come un po' come l'Austria ne parlavo anche spesso anche con Paolo ne siamo visti velocemente ci fu se non sbaglio di 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 Ben Carlson non Ben Felix un altro Ben di 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 l'industria, tutto era l'Austria, ad oggi pesa lo 0.1% forse, però esce solidarmente nel tempo, quindi l'Austria è stato un gigante che è lentamente morto, il Giappone simile, l'America può succedere, è ovvio che se c'è un crollo del 20% a causa Covid all'America domani crollano anche tutte le altre, ma se lentamente l'America smette di innovare, fiscalmente sta nella merda, il debito pubblico americano sta così alto, alzano tasse e lentamente l'America stagna mentre qualche altra nazione galoppa, è ovvio che con un ETF World ce l'hai dentro, ma avessi fatto strategie più equal weight sarebbe andata non male, il problema qual è? Che però con un ETF World c'è dentro tutte le nazioni sviluppate e in via di sviluppo, se lo fai a mano devi non dimenticarti di qualche nazione, se compro l'India, l'Indonesia è così, cazzo ho dimenticato l'Atelandia, l'Atelandia è diventata la Nuova America e te la sei persa. Ti giuro che non sapevo che ci fossero un ETF sulla Thailandia, ti giuro. Mi sembra che sono tipo una cinquantina le nazioni investibili. Poi esiste anche questo di mercati di frontiera recente, ci sono i frontier market che sono altre 20 nazioni non sviluppate, non in via di sviluppo, quelle che hanno un mercato investibile, anche se hanno delle terre criminali perché ovviamente... Allora, altra cosa interessante era Equal Weight, Orizzonte Temporale, Vendere Asset in Profit, vediamo un po', ho qualche domanda segnata, ok questa qui ne abbiamo un po' affrontato, se non è un'idea del termedio del portfolio. No, e Mr. Rip mi ha detto che qualcuno aveva detto 0,36, io ero tutto contento, ho detto buona lei e via. Non credo, vedendolo così... Non credo, però 0,50, non più di 0,5, anche perché hai roba americana, hai azioni singole e così via. Altra cosa, abbiamo parlato di differenziazione geografica, non abbiamo parlato di differenziazione... Tu anche ho visto che ti piacciono i tematici settoriali... No, ho capito male. Non li ho mai comprati fino a poco fa, perché ho provato a comprare quello dell'acqua, Vixor World Water, vabbè, poi mi sono messo un lavoro un giorno e ho detto, vediamo in cosa investe. Qatar, altre strane aziende, quindi ho detto, mi sfuggono al controllo quelli settoriali, non so mai bene dove investono, spesso magari non hanno modo di investire esattamente in quello che ti permettono, la famosa acqua del Qatar, e cioè, spesso tu non hai modo di andare veramente... Cosa vuol dire esempio? Cosa vuol dire intelligenza artificiale? Google? Cioè, vedo che appunto... Ah sì, Bill. Cioè, spesso ti chiedi dove investono veramente ste robe. Quindi, al momento li evito, ero un po' tentato di messerla dentro. Sono di secondo grado, se tu vedi gli ETF materie prime, ci sono aziende che fanno estrazione, quelle che fanno lavorazione, non è che stai investendo nelle materie prime, quindi diciamo che devi andare un po' a leggere. Questa cosa intanto è un bellissimo ragionamento, invece che comprare un ETF electric vehicles, andate a vedere poi appena cosa significa, perché un conto è il titolo, un conto sono le aziende che ci stanno dentro. E così, un'occhiata, perché questi sono indici molto poco standard, cioè non è che sono indici ufficiali, c'è sempre una logica dietro, che la logica è attiva, poi l'implementazione sarà passiva, però chi sceglie cosa entra nell'indice e cosa no, e in questi tematici è un gioco quasi anche di giochi loschi, fammi entrare nell'indice Clean Energy, l'azienda cerca di entrare. E le volte che ho tentato di fare, diciamo delle micro speculazioni, del tipo compro questo, non so, vedo che metà delle volte non vanno bene, quindi vabbè è inutile buttarle lì, tipo appunto le aziende farmaceutiche, che ogni tanto le compro, e la logica del tematici è mio cugino, tipo le farmaceutiche ogni tanto le ho comprate, ho comprato l'unica farmaceutica che non ha sviluppato il vaccino col Covid, l'unica, le hanno sviluppato tutti. Ricordo, per assurdo, ora mi ricordo quando Tesla stava per entrare nell'S&P 500, nonostante rispettava alcuni, ho scoperto che anche gli indici, quelli più famosi, c'è un grado di soggettività, cioè l'S&P 500 non è definito come le 500 migliori aziende, top aziende americane, ma la definizione è molto più dettagliata, l'elenco delle 500, top stocks, quotate sulle borse americane, che però hanno almeno due quarter positivi di earnings, la realtà è che Tesla quando è entrata, era già tipo settima come market cap americano, non era ancora nell'indice, perché non rispettava alcuni criteri di qualità, e c'è stato un dibattito, alla fine lo standard pur ha deciso di farla entrare, quindi c'è qualcuno che decide se farla entrare o no, il giorno che è entrata ha fatto anche un altro saltino in alto, la gente stava speculando su se entrasse o no nell'indice, quindi l'avevo comprato prima e venduto dopo, quindi in teoria, se già questo accade, per esempio il 500, figuriamoci per un ESG o altri settori, ok quindi siamo d'accordo sui settoriali, non vai pazzo e così via. Sì, per niente proprio, ne ho preso uno come meme, giusto perché in una live la gente non credeva, comprova le robe a caso, ho detto boh ditemi cosa comprare, mi hanno detto miniere di rame, ok, ETF sulle miniere di rame, meno 30% adesso. Però comprando così a caso, che è divertente, che ci sta che il gatto che compra a caso, ha stesse probabilità di battere le semplici, quanto di un fondo attivo, anzi al netto dei costi, è più facile che vinca. Però dico, se compri proprio a caso, non rischi di avere tanta sovrapposizione di asset? No, 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 appunto, quelli, vuoi un po' coprire la macchia di leopardo, un po' tutto il mondo immagino. Esatto, quelli geografici coprono la macchia di leopardo, quelli settoriali non riesci a coprire la macchia di leopardo, tutto il mondo, perché ne sai che nell'intelligenza artificiale, non c'è la stessa cosa che c'è nell'acqua, magari c'è quello che usa l'intelligenza artificiale. La stessa stocks ce l'hai in 50 ETF diversi, però anche chi se ne frega, va bene così finché c'è... Sì. Ok, un altro paio di domande in questo video, poi passiamo al mondo cripto, che mi interessa anche quello lì. C'è chi ha chiesto, Samuel, Samuel e DCN, massima stima per entrambi, grazie. Vi sottopongo una questione su cui avete visioni distanti, cripto esclusa, ETF obbligazionari, Paolo. Paolo ha detto che è un video che li disincentiva, l'ho visto quel video, su non comprare mai, ha iniziato con l'affermazione forte. Mentre Giorgio ha circa 250k su questo strumento, cosa ne pensate? Inizio tu, inizio io. Inizio io, inizio io, inizio io. Sono consapevole del fatto che gli ETF obbligazionari non hanno un andamento istantaneo che mima il ritorno istantaneo degli ETF appena emessi, per definizione, ma in ogni momento... Delle obbligazioni appena emessi. Delle obbligazioni, certo. Cioè, tipo, se io comprassi obbligazioni a scadenza un giorno, ogni giorno, in un anno avrei come rendimento l'integrale durante l'anno del rendimento annuo. Non perdi 500 iscritti ogni volta che nomini integrale? T'ho sentito anche altre volte fare cose così. Va bene, pazienza. A me piace. L'integrale è l'operazione della vita, proprio. Cioè, come dire... No, per dire che se potessi sempre comprare un bond che sta per scadere, avrei in un giorno il rendimento giornalierizzato dell'annuale che c'è in quell'istante sui bond. Per cui, in teoria, se comprassi un bond che sta per scadere, avrei quel rendimento di ogni istante. E quello sarebbe un estremo. L'altro estremo è comprare un bond sul mercato. Perché alla fine ha lo stesso andamento di un ETF di bond, un singolo bond. Se non lo compro sul mercato primario, quindi lo prendo a demissione e lo tengo fino a scadenza, se compro un bond nel mercato secondario, anche un singolo bond, e il giorno dopo i tassi salgono, e io lo vado a rivendere il giorno dopo sul mercato secondario, ho perso ugualmente. Quindi anche un singolo bond a lunga duration ha gli stessi problemi di un ETF di bond. Questo qui è. Però tu le obbligazioni le vedi come le compro, quando le vengono emesse, scadono in N anni, le tengo fino a scadenza, e ho un cash flow predicibile. Questo qui è un modo di investire in bond. Un altro modo è comprare bond sul mercato secondario, e un altro modo ancora è comprare l'ETF di bond. Istantaneamente l'andamento del valore real time di mercato ha delle dinamiche che vanno con la maturity, quindi più sono a lunga maturity più hanno un effetto leva, e con la variazione non dei tassi di interesse, ma dei tassi di emissione dei nuovi bond stessi. Ok, ma nel lungo periodo, in ogni istante, il rendimento atteso è quello istantaneo. Quindi in teoria, se io ho un ETF di bond oggi, chiudo gli occhi, lo riapro fra dieci anni, il rendimento atteso è il tasso di oggi per dieci anni. Questo è vero in qualunque... su un rendimento c'è chi dice uguale, o c'è chi dice doppio rispetto alla average maturity degli asset che ha l'ETF di obbligazione. Non faccio speculazione nel breve, anche io i bond li considero così, però non mi metto lì a perdere energia a comprare singoli bond e tenerli fino a scadenza. Quindi va bene così, la fluttuazione che ho visto va bene così. Questo è il mio pensiero. Poi, detto questo qua, la mia implementazione in realtà è che io ho ETF i due più grandi sono comunque short term bond. Anche io preferisco bond a breve termine, per cui i due ETF più grandi che ho sono a short term, uno americano e uno europeo. Però hanno perso tanto pure quelli, moltacci loro. Io comunque quel video l'avevo fatto perché? Perché io vedo i clienti retail, quelli meno istruiti finanziariamente, che si rivolgono alla banca, prima cosa che dicono è io non voglio rischiare capitale. Allora la banca cosa fa? gli rifila un ETF obbligazionario. Non un ETF, un fondo obbligazionario, magari un ETF. Spesso purtroppo un fondo obbligazionario. E cosa succede? I tassi magari aumentano e questo qui dopo un anno si trova meno 15% sul suo ETF o fondo obbligazionario e giustamente gli girano. Perché aveva detto non voglio perdere capitale mai. La stessa persona se avesse comprato un singolo bond allo 0%, che era il tasso che davano prima a 10 anni, dopo un anno voleva rivenderlo, dopo un anno voleva rivenderlo, lo avrebbe venduto al 15% in meno, è uguale, non cambiava niente. Però, attenzione, non lo rivende. Esatto, e la banca gli dice non lo rivenda, in quel caso. L'ETF la banca deve farti vedere il prezzo, deve farti vedere il prezzo e il prezzo in quel momento è quello. Ma se ti legassero le mani, dopo 10 anni tornerebbe anche l'ETF non è garantito. Dopo 10 anni torna. Allora, dipende, dipende. E mette che i tassi sono saliti e poi sono restati saliti oppure continuano a salire anche. Allora, l'esempio è che se c'è un un unico movimento istantaneo, immagino, passano da 0 a 5%, un bond a 10 anni. Ovviamente, tu l'hai pagato 100, stava a 0, ti aspettavi di riavere 100 fra 5 anni. Metti che dopo un anno vanno al 5%. Un bond che ti dice dopo 9 anni residui ti do 100 lo pagheresti 60, non lo so, 70, perché al 5% per 9 anni. Chiaro. Quindi, in teoria, se lo volessi rivendere avresti perso di quel 40%. Se però lo tieni dal 5% l'anno fino a tornare a 100 dopo 9 anni residui, questo è matematico su un bond singolo. Un ETF che però dipende dalla strategia dell'ETF. Se l'ETF è una strategia che comunque ha il left range a 0, quindi compra nuovi bond e ritiene fino a maturity, è garantito. Se ha una strategia stronza del tipo bond a maturity 3,5 e lì rischi, in teoria devi aspettare un lungo periodo per avere stabilità. Ho fatto il calcolo esatto, proprio supponendo un 3,7. Se hai una roba del genere è un po' più fastidioso, ma a me non piacciono questo tipo di ETF. Comunque nel lunghissimo termine è la stessa cosa, anche se i tassi crescessero asintoticamente sempre, in teoria perderesti sempre, ma se poi a un certo punto si fermano per 3 anni, ecco lì che hai fatto 100% in 3 anni. E diciamo che in questo periodo quel video poi è andato molto di gran successo perché io l'ho registrato abbastanza inconsapevolmente ma è capitato poi che fosse stato registrato nel periodo in cui i tassi erano quasi a zero quindi la gente che ha comprato l'ETF obbligazionario lì subito si è ritrovata l'ETF obbligazionario. Io ricordo che tutti quanti nessun retail parlava di investire in obbligazioni e quando stavano a zero anch'io ho venduto i miei bond. E ma a zero ma che cavolo ci investi a fare in bond? Io considero che queste sono persone che proprio non hanno alcuna cultura, vanno in banca e chiedono un consiglio e in banca quando uno chiede un consiglio investire in bond quando stanno a zero lo fai solo per un motivo lo fai perché i conti correnti gli danno tassi negativi in Svizzera accadeva in Svizzera il conto corrente gli dava tasso negativo sopra i 50k ti diceva eh senti la banca centrale ci fa un tasso interbancario del meno 1% se tu hai più di 50k che ti facciamo il regalo di tenerti 50k senza chiederti niente ti facciamo meno 1% anche noi quindi se i bond danno meno 0,5 wow stai risparmiando soldi però era ok wow era fastidioso comunque considera che stiamo io sto parlando invece di persone che proprio sono culturate finanziariamente 0 e lì lì c'è un altro incentivo che è quello che ci dice Hypex che è lo fai perché prosciughi il cliente con le commissioni sono d'accordissimo sai perché anche lo fanno devo difendere qui i consulenti bancari lo fanno anche perché il consulente bancario se si permette di consigliare un'obbligazione precisa perché magari il cliente ha solo 5000 euro e quell'obbligazione fa default poi gli fanno un mazzo così e quindi lui si tutela dice etf può venderti monnezza e giustificarla come può venderti monnezza nei sacchetti ma non singolarmente bellissima stiamo cercando una metafora ma è esattamente questa esattamente questa e comunque io di mio non investo in etf obbligazionari perché perché ho bisogno dei soldi diciamo a certe scadenze le voglio a certe scadenze mi compro l'azione a certe scadenze mi compro l'obbligazione a certe scadenze e poi onestamente ne ho poche di obbligazioni adesso forse le incrementerò visto che sono in deficit di bilancio ma magari che ne so così col canale youtube si passa in attivo di bilancio dai dai copriamo il cash flow negativo ho bisogno della nuova la nuova vela per la barca grazie se fosse possibile che se no deve disinvestire un etf russo che a me vale pochi soldi ragazzi mezza gazz però ma per una vela non mi pare il caso questa domanda è complicata non la affrontiamo in questo momento però è molto interessante prima o poi ci farò una live a riguardo ma è abbastanza però devi farla tu sì sì ma è tosta anch'io continuo a studiare in questo momento qui è più interessante un anno fa non me lo chiedeva nessuno perché di bond non riguardava nessuno questa bella ho due tre domande ancora salvate e poi passiamo alle cripto ok Paolo questa domanda di Nanday dice nel costruito un portfoglio di etf azionale alternativo a un classico vt o vwce che peso da resta ai us lo stesso dell'etf world attorno al 70% o diverso ne abbiamo parlato un po' tutta la live però se la domanda me la riformulo qual è il peso ideale che daresti tu è molto soggettivo e molto personale onestamente ecco vedendo il video di Paolo di reaction al mio su cui mi ha fatto riflettere che il mondo è un po' troppo americano centrico al momento il market cap è americano america centrico mi viene un po' voglia di sbilanciarmi verso il non america sarebbe stata una strategia pessima eh no guarda che già adesso anche un emoticon del razzo è considerato investimento soggetto finanziario quindi prepara tutti i collaterali vi metto in bitcoin così non me lo posso ecco perché vedete il giudice la parte della non pignorabilità o non sequestrabilità è interessante anche non divorziabilità ok lasciamo perdere questi argomenti tu hai fatto un ragionamento sull'agganciarci anche al al pil dici perché ho visto il pil il mondo è diviso così perché non so cosa fare su questo su agganciarsi al pil c'è un bellissimo video di ben felix che si chiama questo te lo consiglio sono due bellissimi ma l'ho guardato a parte il fatto che diciamocelo so che verrò attenzione verrò bannato dalla chat a breve clippate quindi verrò bannato dalla chat scusa ben felix onestamente fare qualche sorriso qualche movimento delle braccia qualche espressione no eh cioè io ho delle difficoltà guarda sembra un professore universitario di quelli che dopo dieci minuti sei addormentato sul libro però quando le fa ti restano nel cuore quella volta che disse I don't know what to talk about quando parlava di stock picking e fa quella risata sarcastica oppure quell'altra I told you su Tesla fantastico quindi le fa le fa sono rare rarissime rarissime se mai dovessi andare io ospite al rational reminder podcast il mio obiettivo sarà farlo ridere vediamoci la metterò tutta quanta ok comunque ben felix io quel video l'ho guardato confesso che non sono arrivato fino alla fine ok il video si chiama The Stock Market lo so lo conosco lo conosco lo conosco quindi lo dico per gli altri lo ho guardato no tranquilli ragazzi non ci tocca ben se no qui lo cacciamo via in tre secondi come finalmente qualcuno lo dice ehi quindi ti no è vero dai diciamolo un corso lo insegnano tutti i corsi di public speaking muovi le braccia fai trasparire emozioni fai trasparire che ti interessa la cosa ho fatto anche qualche call privata con Ben cioè alla fine lui non è uno youtuber non è un public speaker lo fa come lavoro lo fa come lavoro come parte del suo lavoro in PWL Capital per cui in teoria è quello nella sua azienda che era il più emotivamente adatto pensa agli altri per avere per avere una faccia pubblica la faccia pubblica dell'azienda quindi pensa agli altri no ma lui cioè dà molta autorità questa cosa che non cambia espressione cioè uno lo vede lì così e dice cazzo sta dicendo le cose sicuramente giuste però dà molta autorità però in effetti non è Simon Lebo bellissimo come nome Federico Bidone penso di aver linkato il canale il video di FedeTen è stato chiesto la linea comica di PWL Capital penso ok allora ultima ultima domanda no queste erano già sulla correlazione l'ho persa sul tutti fai per caso mai affidamento al cape alla cicla adjusted price to earning ratio o altri multiples quando fai delle decisioni oppure no cioè tipo vai a scegliere un etf geografico perché dici questa nazione è underpriced secondo price to book value oppure no non è troppo complicato però sai la mia idea è che c'è chi fa questa analisi meglio di me e sicuramente se era molto underpriced in base a indici oggettivi si è già comprato la roba e l'ha già mandata su di prezzo ok va bene questa è la mia idea e c'è chi questa analisi se io riuscissi a farle meglio degli altri sì però non riesco a farle meglio degli altri questa analisi non ho dati migliori degli altri non riesco a farle meglio degli altri quindi anzi le faccio molto peggio in caso quindi no no assolutamente ok ok efficient market hypothesis ok bene io passerei al secondo sì con certi limiti ma ok abbiamo altri due topic che voglio toccare uno è il concetto di fire ma vediamo se ci avanza tempo perché eventualmente lo facciamo alla fine ma se ci abbiamo tempo parliamo di crypto parliamo di crypto parliamo di elephant in the room crypto crypto faccio guidare un po' a te sul mondo crypto guida tu investire in crypto perché allora io ho due motivi per investire in crypto allora il primo è un motivo di dati io guardo i dati passati esattamente come faccio per lo standard e pur e aspettate aspettate a mettere i downvote ah no non siamo su reddit e aspettate a bannare a randarvene io guardo aspettate che dica poi le precisazioni io guardo i dati vedo i dati e guardo ritorno atteso 100% drawdown 85% sto parlando di bitcoin drawdown 85% recupera sempre in 4 anni l'ultima analisi che avevo fatto adesso magari no recupera sempre sempre in 4 anni abbiamo forse 4 anni di storia no no abbiamo storia da 2014 dai eh sì 9 anni infatti quella aspetta che me le faccia da solo le obiezioni guarda caso il tempo dell'halving il tempo dell'halving quindi è predecibile no sull'halving poi se volete posso dire delle parolacce è molto molto cioè quelli che dicono quando fa halving aumenta il prezzo voglio dire che su quelli stessi che pensano ho fatto un video ho fatto un'analisi precisa su quello magari ne parliamo dopo ok ok no comunque ecco allora ovviamente cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento abbiamo 9 anni di dati peraltro i primi anni era un bitcoin forse un po' diverso erano 4 ragazzi che stavano nelle lì che se li scambiavano a mano e quindi abbiamo pochi anni di dati poi è una cosa che ha molti nemici cioè non è lo standard and poor cioè che se ha dei nemici sono quelli finanziariamente irrilevanti qui ha dei forti nemici le capitovalute ed è una cosa che può tranquillamente piombarmi a zero le aziende è difficile a meno che non siano russe è difficile che mi piombino a zero perché c'è sempre qualcuno che dice eh ma il prezzo è sceso sotto il totale valore degli asset e quindi allora si rialza perché minimo il valore degli asset dovrebbe farlo non è vero il credit swiss è sotto il price to book però vabbè lasciamo bene c'è anche le liabilities eh ok perché le liabilities si appunto ehm sì sì devo dire soprattutto le banche possono scendere con le liabilities possono avere un prezzo un book value negativo addirittura ok sì comunque ha questi tre grossi difetti e per questo ci vado calmo so che per voi non è calmo quello che ci ho messo io questo è il primo motivo per cui investo in cripto secondo motivo per cui investo in cripto e qui si ha qui mister rip prima di per capire di inquadrare si può capire quanta percentuale del portfolio in cripto oppure no no non è non è metà non è metà non è metà come era stima io avevo forse esagerato più del 20% più del 20% beh ma questo dipende molto dal momento e fammi pensare eh no investito quindi quando io ho messo quando io questa è un'altra cosa mi interessa il valore di mercato se oggi volessi liquidare tutto se vuoi dire dare una forbida eh sì possiamo essere sul 20-25 meno di metà è su un 20-25 possiamo essere va bene e comunque è tanto sei consapevole che può andare a zero sì sono consapevole cavolo e dormi la notte ho visto può andare a zero bitcoin che va a zero adesso no quello lo vedo di sicuro no sai se c'è un problema tecnico va a zero secondo me se c'è un problema tecnico va tutto a rimango se viene hackerato ma viene hackerato banalmente si trova che non funziona l'algoritmo della firma digitale viene ok passiamo al secondo motivo il secondo motivo ed è uno dei leitmotif di tutti i bitcoiner questo è che io vedo questo bitcoin e io mi ricordo di quando ero giovane e vedevo internet cos'era internet negli anni 90 c'è un video bellissimo di David Letterman che intervista Bill Gates nel 95 e lo percula per tutto il video perché Bill Gates sostiene che si potrà guardare una no sentire una partita di baseball su internet sentire neanche Bill Gates non usava neanche dire guardare il tape recorder does this ring a bell esatto internet era così negli anni 90 io c'ero sin dai primi anni 90 e cosa lo usavo per giocare giocare online su interfaccia testuale tra l'altro scrivevi una mail al mio no che non si poteva non c'era ma come una riga alla volta che dici cavolo quando arriva si ma con i caratteri con i caratteri aschi immagini a 16 colori cioè volendo 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 con molta fatica usando gopher riuscivi a tirarti giù un'immagine da qualche archivio di qualche pirla che l'aveva messa su FTP pubblico suo io mi ricordo oggi tipo 32x32 pixel oggi nello schermo neanche lo vedi mandavo le mail al mio supervisor l'unico utilizzo che facevo e lui mi rispondeva dopo due giorni perché ovviamente non aveva internet a casa quindi era veramente totalmente inutile ma io stesso ero convinto forse non dico inutile ma abbastanza le mail capivo che poteva avere un ampio futuro ma il resto no cioè anche le prime volte che ho visto il browser dico vabbè sta roba mosaic che fa la E la cosa strana vabbè ho fatto la mia pagina ok bella però insomma non andava tanto lontano secondo me io mai avrei pensato che mia madre che saluto che sei lamentata che fai la live su Twitch non può seguirla perché non ha tutto il cellulare vedrà il video tra sei anni quando uscirà e mi sono io mai mai avrei pensato che mia madre sarebbe stata in grado di usare internet cioè di mandare foto su internet mai avrei pensato eppure ha avuto uno sviluppo terribile le criptovalute potrebbero e dico uso il contenzionale potrebbero avere questo sviluppo oppure potrebbero non averlo come altre tecnologie tipo butola second life google glasses che non hanno avuto lo sviluppo che tutti pensavamo quindi chissà quanti in queste tecnologie morte hanno detto ah mi ricordo il video di letterman che perculava bill gates cioè bill gates in quel momento lì noi parliamo oggi di quella roba lì con survival ship bias anche astro teller che girava con una roba in testa che era uno dei capi di google x che ha sviluppato il google glass che girava con un mostro in testa negli anni 90 per dimostrare che poteva wearable funzionava però oggi lo perculiamo continuiamo a perculare perché poi google glass è fallito quindi ogni tecnologia che nasce è prima di fare i bitcoin sopravvive da 10 anni forse sopravvive forse non ha affatto quello che io mi aspettavo io mi aspettavo che bitcoin facesse qualcosa del tipo almeno diventasse un mezzo di scambio e io sono rimasto l'unico pirola che va nei negozi a cercare di spendere i bitcoin questo è un ragionamento che ho fatto dopo che ci siamo sentiti quando era ieri ci siamo sentiti io trovo che si ha mi hai detto no va in conflitto il fatto che tu dici bitcoin è un asset che fa 100% l'anno e io vado in giro a spenderlo perché lo spendi cioè holdalo io mica vado in giro a spendere azioni standard eh ma vado in giro a spendere euro io comunque eh spendi gli euro non spendere i bitcoin i bitcoin aumentano di valore ma non è che i bitcoin volendo potrei comprare negli altri con quello che spende è vero che ci smeno almeno il 2% minimo minimo il 2% di commissioni chi te lo fa fare è nato secondo Satoshone nazionale come moneta ma oggettivamente anche per la banda passante che ha non potrà mai essere una moneta diventare al massimo oro digitale non lo so eh adesso più che altro io perché di questo vedo che proprio porta questo spirito lo spirito è morto è sepolto cioè in dei negozi che me lo accettavano adesso tendono a non accettarmelo più è rimasto soltanto il bar di Rovereto che è ancora il gruppo integralista di bitcoin che lo accetta fantastico vedo che sono spariti sono spariti gli ATM gli ATM quelli dove mettevi 50 euro e ti uscivano i bitcoin ti uscivano i bitcoin ti arrivavano i bitcoin sul wallet ti arrivavano i bitcoin sul wallet sì perché piano il mondo di notizia di ehi attenzione anche in questo posto finalmente si possono usare ma tutte le notizie di discontinuazione di questi servizi io vedo un calo vedo un calo cioè non ho più il coraggio di entrare in un negozio che espone la targhetta bitcoin accepted e provare a pagare in bitcoin perché so sicuramente che mi dice non so come si fa e io vedo un calo sull'utilizzo di bitcoin come moneta purtroppo devo dire getto la spugna anch'io a questo punto anche se c'è l'IT network che adesso rende le transazioni quasi senza commissioni eccetera eccetera qualche anno che se ne parla ancora non ho visto nessun utilizzo no le ho viste le transazioni in lightning network però insomma aggiungiamo un altro un altro strato di difficoltà per i poveri che già non riuscivano prima a farle ma è anche un altro strato di cioè non sei più sulla rete bitcoin tutto qua nel senso che sul bitcoin tu hai l'occhi si però l'occhi il tuo cioè dai soldi a qualcun altro che è la lightning network e tu poi vabbè non sono transazioni che sono sulla blockchain in bitcoin ma vabbè comunque comunque questi sono i due motivi per cui investo in bitcoin adesso posso comprarmi un pezzo di internet io sono stato peroculato dalla gente quando ero su internet perché perdevo il mio tempo in quella roba inutile veramente mi prendevano in giro cioè la gente e adesso finalmente mi sono comprato un pezzo di questa cosa che se è successo io ne ho un pezzo io ho i miei mille bitcoin non è vero io ho un pezzo comprato di sta cosa c'è chi dice che Lugano Lugano sta cercando di spingere tanto io ho anche parlato con gente che è nel progetto li accettano veramente cioè io posso Lugano Lugano sta spingendo per diventare un hub internazionale di cripto hanno anche la loro criptovaluta locale non so bene come sta andando questo progetto mi hanno anche intervistato per teleticino per parlarne solo che stanno spingendo tanto bisogna capire quanto è quanto lo fanno per PR o perché ci credono veramente fa strano che la Svizzera la terra ma qual è il mio problema non volevo diventasse una battaglia filosofica sul bitcoin si bitcoin no volevo parlare di investimento io ho detto che investo quindi faccio value investing su bitcoin sembra incredibile ok sostanzialmente value investing lo fai se c'è un sottostante per cui stimi il valore e pensi che il prezzo sia più basso value investing significa il sottostante di sta roba qua perché vale 100 ora il prezzo è 70 figata compro sotto prezzo qui il sottostante qual è no 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 allora il sottostante è la tecnologia cioè mi sto comprando la tecnologia ok però anche TCP e IP è figa come tecnologia non è che vale ma non potevi comprarla è chiaro però i protocolli hanno sempre portato valore a chi ci costruiva on top non al protocollo stesso questa è la mia è il mio può darsi pure che un domani tutti useremo mondo cripto però perché deve valere la moneta e non l'azienda che c'è un top che fa cose e userà cripto come protocollo mi sembra una roba strana però magari mi sbaglio tra l'altro non stai comprando non volevo entrare in questa non sto comprando l'algoritmo ma sto comprando quello che lo fa funzionare sostanzialmente volentolente è quello che lo fa funzionare senza quello non va l'algoritmo è chiaro però è forcabile uno fa una piccola modifica e l'altra cripto vale tanto la tua non vale niente non è che ti stai comprando l'algoritmo mi fanno la modifica su bitcoin mi foccano bitcoin se foccano bitcoin ce li ho comunque cioè perché foccano ce li ho no dogecoin è un fork della base oppure nasce la nuova cripto più interessante e fa più cose è successo ethereum è un bitcoin più figo a mio avviso che però anche ethereum è vecchio e obsoleto secondo me e cosmos e polka sono ancora più fighi però anche lì i protocolli nascono dopo non li puoi cambiare e quindi sono ormai dei cadaveri è come se ogni volta crei un'azienda al momento in cui fai l'ipo non puoi più fare nessuna modifica e quindi prima o poi diventa obsoleta quello è un grosso problema quindi questo è sono cose che mi fanno pensare che boh non lo so ethereum un po' ci riesce perché c'è ancora il padre padrone sì decentralizzazione poi c'è il padre padrone sì c'è il padre padrone sì esatto decentralizzato e c'è il padre padrone che però diciamo che sì ci riesce quindi ancora effettivamente no è perfettamente ragione secondo me hanno una serie di problemi le capitovalute io c'è il mio video di due ore in cui ne parlo e a un certo punto alla fine elenco tutti i problemi che secondo me hanno e c'è quello appunto se c'è un problema tecnico o anche vuoi fare una miglioria è un casino è un casino a mettere d'accordo tutti quanti la chat si sta infuocando perché chi mi segue generalmente è gente che non è molto cripto friendly e poi c'è gente che è super cripto fomentata per cui è molto divisivo come argomento però mi sembra davvero una posizione non eccessiva esatto ma neanch'io io ce l'ho abbastanza forte sull'aspetto utility però sono convinto io posso anche se voglio divertirmi mi speculo se voglio divertirmi posso pure pensare di comprare Shiba Inu e sperare di farci 10x è un casino il mondo di prodotto lo vedo come un casino divertente al casino non ci può anche andare a divertirsi a giocare sulla roulette al 32 se esce al 32 fai 37 volte la posta questo mi sembra una roba simile cioè Elon Musk ha cambiato il logo del Twitter il tweet Elon Musk una vergogna vabbè cioè quelli che pompano dodge pompano bitcoins pompano bitcoins pompano dodge e se la tecnologia è figa perché l'asset dovrebbe crescere dove sta il collegamento e beh perché è necessario per utilizzare la tecnologia cioè è come se io comprassi è come se così butto là un esempio come se comprasse indirizzi IP mi compro pacchi di indirizzi IP ti compri gettoni per usare quella tecnologia ok tu puoi usare TCP IP devi prima o poi ti servirà un indirizzo IP e te lo vendo io compro pacchi di indirizzi IP make sense onestamente però la tecnologia non è proprietaria cioè bitcoin è pubblico per cui se uno vuole può copiare la stessa tecnologia e farlo da un'altra parte ma abbiamo appena detto se vuole può prendere fare un'altra rete più che così può uscire una criptovaluta che funziona meglio ci sono miliardi di cripto al momento più cripto che cripto developer ops aspetta questa l'avevo segnata era carina l'ho appena chiusa non la ricordo più era oltre bitcoin oltre bitcoin ha senso comprare altre cripto ha senso comprare altre cripto this is not financial advice no non è posso anche dare un financial advice ma veramente non saprei cosa rispondere perché ethereum sappiamo tutti c'ha gli smart contract sotto io li ho visti sono simpatici belli non sono non li ho esaminati abbastanza per dire funzionano con certezza però sono anni e anni che li usano abbiamo buone speranze che funzionino con certezza e anche terraluna però avevo buone speranze che funzionasse con certezza terraluna però dai onestamente anche il mio co-founder che è cripto entusiasta diceva che era uno scam da sempre perché prima 20% dai no 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 quella è una cosa diversa non è fallito per quello però beh cioè terraluna non è fallito per il 20% attenzione attenzione ti ho visto frizzato sono frizzato io ti sei frizzato tu io io me l'ho frizzato ok non so se la live è l'effetto terraluna è l'effetto terraluna non so se la live è rimasta su no si è stato perfetto tutti quanti tutti quanti ci siamo ancora forse è crollata un po' la live ok no terraluna non è crollata per quel 20% anzi quel 20% ho continuato a darlo anche dopo ovviamente il 20% in una criptovaluta inutile ma ho continuato a dare diligentemente su 20% è crollata perché qualcuno è riuscito sostanzialmente a far fallire l'algoritmo che bilanciava terra con luna quell'algoritmo che bilanciava terra con luna io quando me ne sono accorto ho fatto un mini video dove dicevo se io fossi stato meno pirla avrei dovuto prendere quell'algoritmo guardarmelo per bene e mi sarei accorto forse forse che non funzionava come io pensavo e quindi qualcuno è riuscito a spaccarlo diciamo in un certo senso però a me sembra questa è un po' una provocazione come se io investo in un'azienda che mi dice che ha superato il secondo principio della termodinamica e poi ha fatto in modo perpetuo e poi dico cavolo se guardavo dentro forse scoprivo che non avevano risolto il modo perpetuo cioè non mi serve guardare dentro ma tu guardi dentro le aziende dove investi no 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 però un'azienda che mi dà il 20% di rendimento su una stable coin in maniera algoritmica è una puttanata cioè eh ma insisto quello cioè era una cosa a parte cioè lì c'era una riserva che monitoravamo e ti dirò quando la riserva è andata a zero la speranza era che il token quell'altro non peggato crescesse su YOLO su self-fulfilling prophecy cioè dopo un po' a un certo punto per forza sì però non è fallita alla fine per quel 20% è andato a un certo punto con la riserva a zero quindi non poteva più dare il 20% infatti io avevo venduto tipo qualche giorno prima poi l'hanno rimpinguata quindi io sono rientrato e me la sono presa no quel 20% era esagerato e non si capiva perché lo voleva andare tra l'altro ha fatto ha fatto crollare tante altre cose perché tutti gli altri sì mi ricordo ha causato un dramma a catena ero molto molto attento in quel periodo ma sul mondo cripto tu sei uno tu sei studioso della tecnologia a te piace non parlo solo di cripto parlo solo di criptografia tu sei anche un criptografo no criptografia mi piacerebbe ma già faccio fatica a fare il mio lavoro quindi mi piacerebbe cioè l'ho studiata all'università ho durato il corso di algebra si faceva un po' di criptografia però basta mi sono formato lì e sì certo quando vedo gli algoritmi cioè capisco come funziona la firma digitale perché mi sono fatto tutti i conti con gli esponenti quelle cose lì tutti i conti a mano per vedere che era vero perché non ci credevo e ok conosci il mondo zero knowledge proof a me sta affascinando questo ultimamente e con nft 100 affascina tanto sto qui attaccando ma ho un'azienda cripto ho una start up cripto e a te stiamo studiando in questa fase il mondo zero knowledge proof quello è onestamente figo io do la dimostrazione di qualcosa senza portartela portanto ti sono dato una prova e tu con la prova puoi capire effettivamente che io ho fatto il mio lavoro ma non serve che ti porti tutto il lavoro fatto è una roba che è molto molto figa mi piace sta promettendo io dico affascina anche a me quando verrò licenziato sarà una delle cose che farò oltre a trovarmi un lavoro perché ma fai lo streamer ormai ormai sono streamer si ma sai quanto se faccio i video su zero knowledge proof chi mi guarda già quando faccio uscire un video beh guarda questo è uno io ho il mondo cripto c'è tanta tanta roba nel mondo cripto ti guardano se parli di costrutti di bottom segnali di trading leg down canale di fibonacci ma chi sei quello è trading di merda quello è astrologia a me piace la tecnologia piace in generale in generale nel mondo cripto sto vedendo focus apputtanate però sono tante menti eccellenti che stanno coinvolte in questo momento cioè noi come azienda collaboriamo con varie entità con la web3 foundation adesso stiamo mettendo un piede anche in ethereum foundation e c'è la ricerca di altissimo livello mi stupisce quanto effort ci sta dentro agli aspetti belli quelli che potrebbero comunque dare un valore interessante il mondo zero knowledge per me è un po' wow poi non so se servirà sono d'accordissimo anche per me non so se darà vantaggi cioè sto vedendo modi per risolvere problemi del blothing di data cioè i nodi archiviali cominciano a diventare inutili cioè ho scoperto che dico sì ma ethereum ogni 10 secondi tira fuori un nuovo nodo fra 50 anni sarà 100 terabyte sarà impossibile no puoi dimenticarti scordammoci ho passato come zero knowledge dimostro con una merkel proof la root del merkel tree con la transazione che ho fatto io ho fatto questa transazione tu non ce l'hai nella storia però ti fidi di me perché ho la prova ineccepibile figa sta roba qui sta roba qui è figa qualche problema che reputavo insormontabile con questo in generale questo affascina sono i pezzi di tecnologia interessanti poi non sono ancora convinto che il problema alla base sia un problema da risolvere che sono le banche che sono cattive qual è il problema alla base che ci serve sta roba le banche sono cattive a me le banche non dispiacciono ma neanche a me infatti esudisco su internet le mie lezioni su bitcoin esudisco dicendo le banche van benissimo nel senso che che ne so amazon ha risolto un problema ehi leggevamo solo libri fisici adesso possiamo leggere un ebook reader google ha risolto il problema ho preso l'esempio peggiore no ma non lo sentivamo quel problema good point però una volta ce l'hanno mostrato abbiamo detto ah cavolo è vero oppure possiamo fare lo shopping al volo di tutte le cose figata o internet quando letterman prendeva per culo Bill Gates però oggi possiamo fare il testa roba qua perché c'è internet ha risolto un problema che forse non c'era ma una volta che ci abbiamo pensato abbiamo trovato che c'era un problema le cripto che cazzo di problema risolvono ancora devo capirlo secondo me sono ancora troppo giovani so che dici 10 anni troppo giovani può essere che siano troppo giovani al momento problemi ne risolvono gran 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 pochi devo dire forse quello della non sequestrabilità dei fondi eh si che era il motivo originale di Satoshi uno dei motivi originali di Satoshi però sai te lo possono fottere in altro modo se ti fottono tutti gli exit point no? ah no gli exit point no vabbè quello è un bel argomento vai da un amico se ti vieni da me mi dici mi dici Paolo ti do bitcoin a sconto 30% io ti do subito il cash stai tranquillo però metti che l'Italia vende gli ETF messicani mi sembra che la Cina ha dichiarato le crypto illegali no sono una cazzata però un governo dice non ce le puoi avere poi uno ce l'ha lo stesso non è che ti vengano ad arrestare però non puoi in nessun modo a un certo punto farti un bonifico da Binance al tuo conto cioè come quando è che li tiri fuori certo gli da uno e accettare i pagamenti e accettare i pagamenti al bar in cripto è considerata evasione fiscale cioè quindi a un certo punto che ti inventa senza dubbio questo è un modo per ucciderli è quello che ho detto hanno tanti nemici anche se una volta ho fatto questa obiezione a un tizio di cui non racconto perché ci vorrebbe una live è un tizio stranissimo vabbè ve lo racconterò dopo comunque e lui mi ha detto giustamente ci sono troppe persone ricche che hanno bitcoin quindi questa cosa non succederà good point good point le whale hanno la maggior parte sono quelli che sono entrati sì no non tanto più che altro i fondi anche magari che hanno bitcoin quindi iniziano ad esserci troppe persone ricche che hanno bitcoin quindi un ban totale non lo fanno ci sta gente che è di super entusiasta le banche piacciono al 20% dell'argente preferisco le banche a incluso le preferisco le banche a btc sì no secondo me le banche piacciono al 90% della gente dai ma ho problemi con le banche però non vedo non mi sembra che siamo all'urgenza che mi serve uno strumento diverso che posso perdere le password posso machirare l'exchange possono manipolare la valore non c'è stabilità ho vedo tantissimi problemi chiaro Federico Bidone dice che il problema è che i consumatori che si sono scottati nel 2008 pensano che la colpa sia delle banche cattive in effetti il timing di bitcoin è perfetto è uscito praticamente al momento in cui le banche stavano fallendo in effetti cazzo ottima strategia di marketing no dicevo alla luce di questo qui non hai paura di essere troppo esposto alle cripto come ma luce di questo qui quale è del più possibile ban no di tanti problemi che hanno ed è al momento poca concreta utilità cioè per il solo fatto che ti piace la tecnologia mi piace anche VR ma non è che metto il 30% del mio patrimonio in VR e poi non manco mi piace la VR però no in realtà so che adesso ti ho una cosa che non ha senso dal punto di vista logico e tu sei già del cash flow negativo cavolo è un'intervention questa tu sei già qual è io ci ho investito poco tutto sommato ok arriviamo alla sunk cost fallacy dovrei venderli quindi a norma quindi col fatto che ci hai messo poco ma sono cresciute ti senti ancora che non sono soldi tuoi è come aver comprato il bar sotto casa ho comprato il bar sotto casa per 10.000 euro adesso ne vale 100.000 cosa faccio è rischio fallimento rischio fallimento no è rischio fallimento tanto quanto era prima anzi un po' meno di prima devo dire decisamente meno di prima non lo vendo ok sarà tutto psicologico è tutto psicologico è tutto psicologico ovviamente ho questo a mio avviso il costo di acquisto di un asset poi lo faccio anch'io anch'io se sto in perdita mi sento un pirla per cui no però il costo di acquisto dovrebbe essere un se ti avessero regalati i bitcoin se li gestiresti diversamente se tu trovi per terra 100 euro li spendi diversamente dai 100 euro che hai lavorato no no assolutamente cioè se tu adesso avessi tutti i soldi liquidati sul conto corrente li rinvestiresti con lo stesso asset allocation che hai adesso beh in effetti no è che ho la storia quindi direi capro devo comprare bitcoin a questo prezzo mostruoso rispetto a come se tu tipo andassi in coma ti risvegliassi con la memoria persa e trovassi quest'asset allocation però le stesse convinzioni non sai trovassi quest'asset allocation non sai non sai più hai perso i dati sui prezzi di acquisto ti comporteresti diversamente boh non lo so è difficile perché vabbè a parte che direi se all'epoca li ho comprati ci sarà stato un buon motivo quindi vabbè e no questa è una domanda difficilissima in effetti perché tutti guardiamo i prezzi di acquisto no è chiaro è la consapevolezza di un buy a fine come si dice quando Dan Ariely dice predictably irrational perché siamo irrazionali e però lo continuiamo a fare non è che non è che conoscendo i bias poi dopo allora non non siamo bias no in realtà una cosa simile mi è successa perché io ho liquidato tutte le criptovalute a fine 2022 e le ho ricomprate a fine 22 quindi tre mesi fa per motivi fiscali in Italia è cambiata la legge ma è lo stesso beh sì mi ha dato un po' di sfiga però non potevo fare altrimenti in Italia è cambiata la legge e ovviamente non è che le leggi quando cambiano in Italia te lo dicono in anticipo no la legge è stata approvata dal Parlamento tipo il 29 dicembre e entra in vigore il primo gennaio e cavolacci tuoi e quindi sì quindi in realtà ad un certo punto di vista l'ho fatto ho liquidato tutto ho ricomprato quello che avevo ok ok quindi sì anche se in realtà ovviamente sì ho sentito non ci dispiace e so che tra l'altro questa mia formazione adesso scatenerà il panico perché vuol dire che c'è un cambiamento di fisco di sistema fiscale sì ah so che tu hai annunciato più volte che devi fare una live o un video sulla tassazione delle criptovalute io ho già fatto numerose live su come vengono tassate le criptovalute però il popolo reclama a maggio che c'è da fare le dichiarazioni la live vi un mega video su come vengono tassate per filo e per segno il problema è che il ministero ancora non ci ha dato nessun chiarimento vabbè ok quindi io lo faccio io ho appena fatto dichiarazione reddita in Svizzera e la tassazione mi hanno chiesto di dichiarare quanto staking ho fatto e starò mi hanno fatto infuriare e come te l'hanno tassato lo staking è come dividendi da rendizioni ma lo staking vero o quello finto è quello finto cioè non so cosa intendi allora lo staking vero è il proof of stake quindi hai messo dei soldi in proof of stake quindi bloccati sulla blockchain Kraken no no finto sarà finto allora forse oddio non so se Kraken Kraken ha dei ha i suoi nodi e farà staking vero e mi dà a me una percentuale più bassa mi dà a me il 12 allora è staking vero perché noma attiva e noma fiscale sono due cose molto diverse questo qui in Italia questo in Svizzera in Svizzera interessa però qual è il problema è che un conto è che fai staking su un token il DOT è un token deflazionario per scelta cioè un token inflazionario scusa cioè lo staking è alto ma è una cosa voluta nel senso che in teoria il DOT dovrebbe perdere valore perché è perché è inflattivo cioè è fatto apposta per far sì che tu non possi se tu fai un stake puoi farlo con 30 giorni quando fai staking per avere valore devi avere almeno 30 giorni di stake per cui chi non mi mette a stake è perché sta facendo trading quindi vuole penalizzare il trading e favorire chi fa hold ok quindi però in teoria non è che sto facendo profitti in teoria anzi il DOT ha perso 80% del valore ho fatto io ho perso 80% del valore però ho fatto il 12 di stake e quelli me li tassate è una presa per il culo cioè è un po' come se se cambiassi se decidessi ragazzi adesso invece di un euro tutti i numeri li raddoppiamo avete 2 euro ogni euro diventano 2 euro tutti i prezzi raddoppiano non cambia niente però ehi hai fatto profitti hai fatto il 50% nominale sui tuoi soldi ti tassiamo quel 50% è una presa per il culo quindi un conto è se uno mette non lo so in crypto lending delle stable coin e ti danno il 5% quelli sono soldi veri no però sono come dire però sono anche a me capita sempre questa cosa è un profitto quando parlo ai miei studenti di sorare sorero che io non riesco a pronunciare mi manca la r io gli dico sempre guardate è come il fantacalcio tanto che qui poi ci sono soldi veri poi dico no in realtà c'è ethereum sempre è una stable coin alcune alcune cresciano all'improvviso anche quelle più fighe USDC era depegata del 10% recentemente quando è crollata Silicon Valley Bank per cui però capisco pure che mi tassano i profitti in USDC USDT UST no non lo dico quello lì per non ci raccolterlo nella piaga però però se mi tassi lo staking su DOT che è una che by design lo staking è una parte inflazionistica del sistema e me la sta prendendo per il culo vabbè d'altronde non si riescono ad adattare le nuove tecnologie normative ciscali devono rifarle devo dire che la nuova norma italiana tutto sommato sai cosa ha fatto ha fatto calderone unico ha detto tutto è plus valenza punto plus valenza minus valenza quindi paradossalmente è più avanzata della norma sugli ETF cioè tu staking è plus valenza vendita è plus valenza sì ma questi guardano solo cose nominali se un token fa tipo come le azioni se un token fa una split te lo calcolano come plus valenza e sei da criminali capito se fa uno split intendi un folk no metti uno split come le azioni le azioni una diventano google ha fatto 15 a 1 uno split sì sì no tu ho capito cosa esagerato per un anno non lo so si può si può implementare cioè so che si può implementare facilmente in una cripto moderna però a quel punto non è un profitto è semplicemente una divisa una moltiplicazione cioè è un cambio è come il cambio euro è il cambio dollaro lira il cambio euro lira insomma è stato un fattore moltiplicativo non puoi rompere i coglioni che non è profitto vabbè parentesi che dire oltre chiudiamo la parentesi soldi la parentesi nostra la parentesi tasse che è la parte noiosa secondo me questa cosa infatti io consiglio se non volete avere a fare con le tasse siete residenti fiscali in Italia etf etn su bitcoin o sulle cripto che volete punto e basta cioè via chiaro vi togliete pagate il 2% di terra ma vi togliete la rogna delle tasse eh questa è un'altra cosa interessante che i prodotti cripto hanno quasi sempre dei costi eccessivi ma non dove non nasce per uccidere gli intermediari cazzo questa è veramente clamorosa beh scusate le mail è un sistema decentralizzato eppure tutti noi usiamo un intermediario per cioè quasi nessuno ha il suo server locale chiaro conosco ancora un amico che si ostina a usare il suo server locale infatti in metà delle volte non va però però eppure l'email è nato come il protocollo i protocolli sono pubblici però è che diciamo che ti lasciano ancora la possibilità di scegliere tu puoi scegliere se usare l'intermediario o se fare da te sì però il 99,9 delle persone usa intermediari a vari layer di intermediari dove tiene i soldi dove trade che servizi intermediari usa per avere wallet di vario tipo anyway su just etf ci sono etf cripto a 0% di terra quella sembra strano sembra molto strano ma gli intermediari sono più efficienti spoiler sì 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 però se la narrativa è decentralizzazione i troppi intermediari diventano un po' un problema vedo che Nanday ci linka qui da dentro Streamyard non riesco a copiare tutto quanto però io sì cioè ti faccio faccio del tuo schermo se sta ferma la chat però la chat deve stare ferma un attimo la chat se non sta ferma la chat ecco fatto vediamo se riesco occhio occhio che tanto ti nascondo un attimo perché semmai è un link porno ah ok no no non è un link porno Nanday no dispende per certe persone è porno questo good point puoi zoomare un pochino che si vede un po' piccolo control più qualcosa ok ok se gli ordini per terra erano 0% coinshare FT FTX physical stake sotto la contata 2,5 lasciamo a FTX vuol dire che l'hai messo FTX no coinshare physical ethereum fidatemi wow aspetta un secondo il secondo coinshare physical ethereum 0% di terra che roba strana sai che non conoscevo non conoscevo questa roba qui ora da capire un po' che significa c'è un intermediario 127 milioni di missioni neanche piccolo ok l'andamento vabbè ethereum ah sì maggio 22 ci sarà da confrontarlo con probabilmente con sottostante vedere se c'è un tracking error però ok vai su aspetta replica l'indice sottostante con una obbligazione garantita da titoli di debito che è sostenuta dalla detenzione fisica di criptomoneda sì quindi hanno detenzione fisica sostenuta sostenuta ok vuol dire sostenuta vuol dire che ce l'hanno al 90% al 99% al 10% al 3% chiaro e non capisco qual è il business model di questi qua infatti nel senso che non non capisco potrebbe essere che quel sostenuta è un 50% all'altro 50% ci fanno training come dei pazzi viva la criptomoneda si potrebbe vedere no più che il kid è il prospect document però vabbè chi se ne fega diciamo che mi sembra strano sarei molto sospettoso non vedo non vedo ragione tenere un prodotto finanziario che sottostante ha le cripto che ha 3-0 qualcosa mi puzza comprano le TH con i tuoi soldi e poi scappano con le IA oppure lo mettono ecco ok può darsi e ti fottono nel senso che tengono in staking e si ciucciano lo staking loro ci sta ma allora non dovrebbe esserci su quelli che non hanno staking vediamo infatti non c'è su bitcoin ok c'è anche staking fisico di Algorand magari nel staking fisico di Cardano di Cosmos può darsi che in questi qua ti dicono facciamo staking e ti diamo x% che è proprio il basso dello staking che fanno loro per cui quello potrebbe essere il senso e il margine se lo tengono per loro e per gestire anche chi entra e esce dal fondo anche se sei un etf non entra e esce nessuno ok interessante abbassano il tear come spesa di marketing si però poi dopo che farò alzi a un certo punto un po' complicato lo mettono in stakes tengono i profitti ok però ecco se vuole comprare ethereum forse c'è un modo un po' più con altri intermediari perché ci vuole un broker ci vuole un gestore di etf comincia ad essere un po' troppi i punti di failure se hai anche un etf del genere io cripto al momento ho poca roba e lo faccio più che per gioco che per altro e ce l'ho su un exchange uso kraken avessi di più decidessi di andarci più pesante cosa che non credo accadrà probabilmente sceglierei soluzioni fatte in house sono anche una persona con competenze tecnologiche non vedo perché non vedo perché dovrei usare pagare il 2% 3% a qualcuno tu so che vai di paper wallet tu hai qualcosa poca roba nelle exchange dietro i quadri scrivo le parole si è vista oh oh hai buttato il chiodo diploma di laurea ok e mondo cioè mondo cripto al di fuori di criptovalute ti interessa qualcosa nel senso allora gli NFT smart contract NFT ah no smart contract li insegno li insegno e mi piacciono purtroppo i corsi sono troppo corti e non riesco a incrementare la mia conoscenza perché io ovviamente ogni anno devo ricominciare da zero ricominciare a spiegare questo è il wallet metamask installatelo così c'è un corso di come si fa uno smart contract in solidity ne ho due di corsi di cui uno dei due viene somministrato ai poveri studenti di accounting and finance che quindi è un'alarma che viene fregata quindi beh cioè questi qui poi vanno in banca e in banca possono dire ah io ne so anche di blockchain riesco a scrivere una smart contract e la banca gli fa due occhi così e li assume questa è l'idea cioè diciamo che gli diamo una base di una probabile tecnologia futura ok hai mai giocato con la DeFi su Chain aiuto ho giocato meno utilizzate ho giocato ma soltanto perché anche questo lo insegno agli studenti di accounting and finance perché se sei un student di accounting and finance vorrei avere un'idea di cos'è la DeFi e quindi ho visto che nel tuo video è mostrato che giochi con altre cripto per motivi didattici per motivi lavorativi sì sì mi sono divertito tantissimo ho preso una cripto gli ho fatto fare il giro dell'universo sai la prendi su un bridge la swappi con un'altra di giro di qua la metti come collaterale di là tiri fuori lo metto su un core protocol ottengo il 20% quando c'è ok e quindi sì cioè ci ho giocato e ci ho giocato anche una volta proprio con i miei soldi confesso ho messo posso dire anche il numero 2000 euro ho messo 2000 euro a collaterale ho preso una stable coin come prestito tenendomi molto sotto i margini quindi ho preso 1000 euro di stable coin questo è Anchor protocol l'ho messo su Anchor protocol l'ho messa come collaterale su Solana l'ho girata ho fatto fare il giro dell'universo l'ho messa alla fine su Anchor protocol quanti figli hai dato quanti costi hai pagato ogni volta ogni transazione no sono i bridge i bridge ti stegano le gambe i bridge sono quando questa è una cosa fastidiosa a me della DeFi i bridge credito valute ma sta sempre a pagare conversion fee di qualunque tipo sei pagando marchette non te ne accorgi è pieno di figli ovunque il mio dramma è stato che quando io volevo fare l'operazione inversa per riprendermi i miei ethereum che avevo messo come collaterale il collaterale valeva ancora il doppio del prestito io volevo fare l'operazione inversa perché ah si era successo che il collaterale era caduto ethereum è crollato e quindi rischiavo la liquidazione quindi non è un problema io ho una stable coin faccio l'operazione inversa spiano la blockchain di Solana si è piantata ah si uno perché la blockchain di Solana ogni tanto si pianta così si è piantata io vedevo la riglietta del mio collaterale rischiavo ero praticamente a mezzo millimetro vicino alla margin call poi si è salvato si mi sono salvato in estremis continuando a cliccare come un pazzo io avevo i soldi lì pronti non riuscivo a uscire Solana è ancora un mistero mi sembra una roba troppo pesante centralizzata non lo so mi sembra molto poco boh il mio bacio della morte la prossima che crolla può essere diciamo che ha questo problema che non può ogni tanto piantarsi cioè se hai finanza decentralizzata sopra non puoi piantarti se hai gente che va a comprare il gelato nel bar come facevo io ai tempi ok ti puoi piantare ma se hai finanza decentralizzata sopra con collaterali che girano è pieno di fi ovunque vero DeFi funziona proprio per le fi delle piattaforme i profitti sono le fi di altra gente sì e le resta le fi e la fomo di altra gente esatto direi che i profitti sono il fatto che è la follia collettiva quando le cose vanno male DeFi è la prima che salta margin call a perdita d'occhio Paolo io come c'è sei un po' stanchino quindi sento il peso tra giornata passiamo all'ultimo argomento sì vogliamo fare l'ultimo argomento se tu che hai fatto che hai fatto 200 live oggi scherzo sì no ne sto facendo un po' troppe sto un po' crollando così al volo voglio parlare di Fire perché tu all'inizio del tuo video reaction dici posso dire la verità a me il Fire non piace adesso direi è la volpe l'uva tu non stai ancora a cash flow negativo quindi ovvio che Fire è lontano ma però in teoria secondo me il cash flow è più o meno zero e tutto viene dai tuoi profitti di investimento sei tecnicamente Fire cosa intendi ah scusa io sono a cash flow negativo alto là sono a cash flow negativo con lo stipendio non con profitti di investimento no è chiaro è chiaro che sono negativo profitti di investimento non riesco a capire quanto sono perché il portafoglio è così incasinato e non avendo dividendi tranquillo a stare con lo stipendio a cash flow negativo con entrate uscite ma sì diciamo che come ho detto proprio mal che vada metto all'annuncio ex docento universitario importisce lezioni di matematica e fisica giù soldi in nero giù soldi regolarmente dichiarati siamo ancora in fasce protette scherzo scherzo beh adesso piccola parentesina con la tua attività da content creator che hai qualche ambizione particolare cioè ti sei posto qualche ambizio guarda la mia ambizione originale tipo di qualche mese fa era superare il numero di iscritti del canale youtube della mia università che sono 1500 quindi è stato l'hai decumplicato li ho asfaltati li hai asfaltati no vabbè ok no vabbè che direzione cosa stai qual è come non lo so non lo so sta lì sta lì è anche una possibile perché metti che mi dicevi metti che come ha detto qualcuno mi tolgo le chiavi dell'ufficio vado lì e mi hanno licenziato ok a questo punto faccio tre video a settimana e quindi e riesco perché ho tutto il tempo di farmi l'analisi e riesco a fare tre video a settimana e insomma magari c'è più qualità che tira su due lire e le riesco a tirare su poi posso iniziare finalmente a accettare sponsorizzazioni che adesso sponsorizzazioni collaborazioni e tutto io ho vietato tassativo perché sia mai che poi quindi sei un puro sei un puro ma non per scelta ma non per scelta ah ok no no non mi hanno costretto però sai è un attimo che poi si dica si dica ecco lui sfrutta il nome dell'università quindi collaborazioni zero 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 quindi chiaro cioè io se non lo sappiamo Paolo parloci perché io dico così tanto gente sul reddit perché sei un pirra sei un reddit sei un utente reddit intenso ma ci perdo le ore ok e ci perdo le ore e rispondo tra l'altro all'inizio ora ti follow ora ti lo reputavo interessante perché diceva vabbè aiuto questo aiuto quello poi mi sono accorto che reddit ha un grosso difetto ma porca puzzolona la gente non va mai a guardare i vecchi post cioè tu hai spiegato una cosa per filo e per segno ok per uno o due mesi nessuno la chiede più dopodiché con te ricominciano le domande quante volte ho sentito la domanda come faccio a dichiarare le criptovalute io ogni volta che spiego la soglia questo quell'altro quindi diciamo io vengo dal mondo dei forum vengo dal mondo dei newsgroup addirittura ancora prima quindi sono abituato a rispondere a tutti sono anche moderatore è stato moderatore di vari forum quindi sono abituato veramente a rispondere a tutti sistematicamente però adesso mi sono un po' stufato perché quando vedo la stessa domanda che ho risposto già tre volte redizia questo di brutto in realtà l'esposizione pubblica adesso stai scoprendo sei arrivata alla dimensione in cui comincia a avere prima quando uno è piccolo risponde a tutti è gentile con tutti dopo quando arrivo cento volte a questa domanda la gente non fa neanche la fatica minima viene a chiedere a te e non si è posto la domanda che faccio disturbo una persona che sicuramente è molto impegnata o spendo tre secondi per googolare la stessa domanda lì mi arrabbio perché già sto con l'acqua alla gola con i tempi con le cose che faccio sono pieno non dormo e così via e tu mi vieni a fare una domanda che potevi googlarla mi dà proprio fastidio però Reddit grande è ancora fino all'IPO è ancora un'azienda simpatica bella pulita pura poi se la comprerà a maschè farà la financia pure questa comunque su Reddit ancora rispondo ogni tanto e ho il problema che spesso rispondo da cellulare quindi io ho detto poi avrete notato che ho dei vari difetti di pronuncia quindi nonostante io ho fatto otto anni di ricerca in speech e riconice quindi so parlare a un riconoscitore e però però il riconoscitore di Google è questa colpa di Mr. Rip il riconoscitore di Google intanto le maiuscole le mette proprio a cazzo ok non capisce mai il termine obbligazione e devo dirgli obbligazione e sarà che un telefono Android abbastanza schifoso e comunque quindi speech to text io uso tantissimo speech to text sì non digital cioè speech to text però poi devi tornare indietro correggere tutto che è un po' onorogne chiaro chiaro puoi fare dei draft di post parlando al telefono e poi dopo ti prendi tutto il testo e lo editi sì quindi ogni tanto per quello su Reddit vedete anche tutte le mie frasi con le maiuscole messe a casaccio perché Google ancora non ha imparato dove ci sono e ogni tanto una parola invece di un'altra c'è chi chiede come si chiama Paolo su Reddit vuoi dirlo? penso sia Paolo Cole Paolo Cole Paolo Cole l'ho cercato già che hai fatto follow sì l'ho trovato adesso mi arrivano 100.000 notifiche ok è U Paolo Cole ah sì sono Paolo Cole sì ok adesso ti seguo anche io ultimo argomento di giornata abbiamo detto di serata ok no comunque il fire io mi avete sentito il fire non mi piace però adesso attenzione dirò un popular opinion e allora del fire non è che non mi piace ma io ho dei problemi con la parte RE retire early se come retire intendiamo andare il concetto classico di andare in presenza cioè non lavoro perché? perché secondo me siamo in una in una società di persone molto interlacciate cioè o sei il nonno di Heidi e vivi nella baita e scendi al paese una volta al mese ma anche il nonno di Heidi se scende al paese una volta al mese e non gli danno quello di cui ho bisogno muori di fame però siamo in un mondo molto interlacciato e il lavoro che fai è la seconda cosa che ti viene chiesta quando conosci una persona nuova a meno che tu non la conosca in un ambiente specifico tipo la conosco alle bocce perché ovviamente uno che ha fatto fire ormai va a giocare a bocce allora la prima domanda è come ti chiami la prima domanda è come ti chiami la seconda è appunto guarda che bella quella ruspa però sai se la conosci una persona normalmente tende a chiederti che lavoro fai tra l'altro questa è una domanda che io ho imparato a non fare più perché ho avuto un amico disoccupato a lungo e in effetti non è bello che qualcuno ti chieda che lavoro fai e sono disoccupato ma prima cosa facevi eh sì dieci anni fa facevo brutto è come quando chiedi a qualcuno perché non hai fatto figli perché non hai famiglia potrebbe essere ecco ma ti penso che ci sono due motivi perché la gente non fa figli o non li vuole o non può quindi non chiedetelo non li vuole o non può in niente casi non è il caso di chiedere ok comunque la domanda che lavoro fai è la seconda domanda che ti fanno e ti classificano con quello cioè soprattutto se a meno che non parli poi per due ore allora in quel caso ah guarda una persona brillante ma se dopo cinque minuti smetti di vedere quella persona tu sei classificato come il nulla facente perché che lavoro fai niente ma non è l'ital per essere in pensione eh non so ma nessuno risponderebbe così ma non per non per non per ingannare perché nessuno nessuno che ha le skill per smettere presto di lavorare poi non fa niente cioè non ci crede non conosco ma allora non sei R.E. retire tanto sei tanto sei financial independent quindi sei uno che volendo il lavoro è opzionale poi se uno faccia solo volontariato se uno mettesse a fare la croce rossa sono Paolo la voa cosa vuol dire la voa salvo vite salvo vite il mio tempo libero ah ti dicono allora sei soccorritore e poi sono l'ambulanza lo faccio adesso poi fra un po' ci penso cioè sì in questo periodo qui sì perché mi va perché mi ha detto il mio astrologo perché la mia cartomante mi ha detto che sarebbe carina come cosa però poi ho pensato di fare volontariato in biblioteca perché mi piace aiutare mi piace se è un ambiente calmo non mi serve cioè i soldi non mi servono faccio io come ne dicevamo io e te forse dipende da dove vivo io ora non voglio parlare della mia città né bene né male però diciamo è il profondo nord il deep north dove la gente è scesa dalla montagna compresi i miei i miei nonni e quindi sono chiusi guardano gli altri cosa fa quella quello è il mio vicino di casa mi chiama ancora dottore o professore quando mi incontro per strada cioè regolarmente quindi ti classifica per il lavoro che fai diciamo qui mister parsing stavo per la stessa cosa roba dell'identificare una persona con il suo lavoro è molto italiana sì è molto occidentale sì è figlia di una cultura in cui siamo mono siamo una cosa no cioè non è una cultura cioè non è una cultura pensata per i muti potenziali o per chi bi classa io stesso faccio difficoltà a identificarmi perché sono un ingegnere informatico ma in realtà infatti cosa dici quando qualcuno io ti incontro al bar io dico wow bella io dico bella domanda io ti dico ricercatore universitario sì ma a me non affascina più tanto perché dico ok se una persona fa una cosa poco interessante ma e tu cosa mi dici che fai io dico quanto tempo hai a disposizione ti interessa allora per me sarai Giorgio quello strano ok va bene perfetto perfetto il mio obiettivo è che la gente mi metta come label uno a cui non può essere messa una label sono classificato come inclassificabile questo è il mio sogno non so in che casella comunque comunque faccio comunque divido lo spazio delle cose non so dove metterlo forse avrai il problema che la tua figlia dovranno dire che lavoro fa il papà ok good point ecco forse ecco il e qui come facciamo cioè tu devi spiegare alle tue figlie ma tu sai che ho paura io ho paura e dico se io vado veramente mi ritiro presto poi mia figlia vedrà un padre che è uno che dice ma che lavoro fa non lo so adesso mia figlia mi si lamenta dicendo ma lavori sempre papà porchi sognavo un'altra cosa per me il retirement è troppo lavoro non ce la faccio più devo fare un retirement da retirement no beh in realtà penso che ai bambini forse abbiamo non lo so paura che si spaventino per questa cosa a parte che fra dieci anni più che si spaventino sono gli altri bambini il problema immagina che se vedi al kindergarten tua figlia che viene presa in giro dagli altri bambini perché dicono tuo papà non fa niente ma pensa se invece mi figlia dicesse guarda questa estate ci pigliamo tre mesi e ce ne andiamo in giro in camper perché tanto mio padre può farlo invece tuo padre si si no certo certo che lavora al catasto svizzero deve essere aperto anche il sabato quindi ah non puoi oggi eh no io posso mio padre ha deciso che questa settimana se la prende per portarmi poi non accadrà perché poi invece a bit ed rispondo non è proprio i bambini parlano moltissimo di soldi ma tanto cioè hanno questa ossessione lo vedo sia con i bambini di età elementari sia quando facevo un'attività sportiva ed ero nello spogliatoio con adolescenti o continuano a chiedermi quanto prendevo di stipendi e dico ma cazzo dove vai a scuola invece di di stressare me Federico Midone oggi è molto molto filosofico il retirement è un concetto legato al percepire un reddito una pensione non è legato allo smettere di lavorare in teoria sì infatti cioè per me se tu fai comunque delle attività però poi la gente vuole un'attività lavorativa diciamo così siamo d'accordo sul fatto che arrivare a un punto in cui non ti serve più lavorare è una figata cioè non puoi non puoi essere male finalmente potrei occuparmi di critografia eh potresti decidere affanculo sti cazzo di assegni che devo ogni volta andare lì e piangere o sperare che me li rinnovano se non me li rinnovano chi se ne frega adesso faccio ricerca per davvero non lo so mi chiedo essere nella posizione prima mettevano in chat la posizione del fottif c'è un famoso video sul il film mi pare che sia The Gambler l'attore John Goodman che parla di fuck you position of fuck you vabbè famoso è stato anche ridoppiato da J.R. Collins autore del libro The Simple Path of Wealth che dice una volta che stai nella posizione del posso far quello che voglio puoi far quello che vuoi anzi è anche più facile che trovi lavoro perché sei più sfacciato perché hai meno paura di non prendere un lavoro e via figata quindi quello su cui non siamo d'accordo è eventualmente sul retire early io l'ho sempre percepito come un retire magari dal lavoro dal lavoro da dipendente che più o meno già l'ho fatto o retire dal lavoro no cioè che devi fare no dal lavoro che fai solo per i soldi cioè retire puoi smettere di prendere decisioni lavorative basandoti sulla paga e puoi prenderle basandoti su ciò che ti appassiona tutto qua poi magari fai più soldi di prima c'è un articolo di Mr. Manemostrace che si chiama se hai un lavoro su ciò che ti appassiona senza dubbio però io ad esempio io non ho un lavoro con youtube cioè non è che ho un lavoro sta succedendo che grazie al mio però non è che lo considero cioè lo considero un lavoro finché voglio però non è che non è che ho il capo cioè non è che vabbè ok poi diciamo che ancora devo nel senso che non sono ancora financial independent prof avvincessi la lotteria e facessi 10 milioni quindi i soldi risolti presto della vita lo farei ancora non è che direi ah non faccio niente lo farei ancora probabilmente sì ma è diversamente magari investirei di più non lo so però non c'è non ci vedo nessuno downside a smettere di lavorare in lavori che non mi piacciono no no beh smetti di lavorare in lavori che non ti piacciono in effetti non ci piove e fammi pensare però niente mi è sfuggita sfuggita la questa è una bella vesperio si stupisce la parola lavoro con attività cioè se in che senso cioè sto pensando come la interpreti nel senso che quello che prima chiamavo lavoro cioè dire alla gente che lavoro faccio diventa che attività faccio mi concentro non sul concetto di lavoro che è al di là degli aspetti fisici di forza per spostamento ma è qualcosa del tipo faccio un'attività per ricevere i soldi resta solo la parte e faccio un'attività poi i soldi possono arrivare non possono arrivare non è parte però non tutti riescono a fare un'attività che sia socialmente accettata come un'attività ok quindi restiamo siamo molto ai limiti non so almeno dove abito io non so dove abiti tu ma dove abito io è molto ai limiti wow in Svizzera c'è gente che fa cose folli è sdoganato anche il sex worker nel senso che c'è gente che racconterà ai figli che lavora su OnlyFans e ok ho dovuto dissociare non si può pronunciare la parola non mi ricordo aiutatemi però nel senso che non mi spaventa di meno perché le mie figlie sono ancora piccole e chissà fra dieci anni quando avranno più cognizione cosa sarà accettato cosa non sarà accettato per il resto io vedo che nel mio ambiente è sempre è sempre ben visto qualcuno che è intenzionale perché è considerato molto più brutto uno che fa un lavoro socialmente accettato ma che è due palle così che lavoro fai? eh faccio sto in banca e faccio quello che sta allo sportello socialmente accettatissimo però magari uffa che persona noiosa che sarà questo qui se invece tu che fai guarda mi sono licenziato ho fatto il giro del mondo in barca a vela adesso costruisco e sai qual è la domanda seguente palloni quali soldi hai? eh ho lavorato in google dieci anni ho messo a parte più soldi di quanti tu e il tuo albero genealogico guadagnerai allora tu sei quello ricco sei quello ricco sei classificato come ricco ok però a me e vedrai scintillare la luce ti assicuro nelle persone di sesso opposto in alcune persone non tutte alcune persone si fa proprio bene ho già dato sono ormai lì ho già dato comunque mi è successo quando ero professore a contratto se tu sei professore io ho un certo periodo prima di diventare ricercatore ero professore a contratto visto che prima qualcuno ha citato professore a contratto ero professore a contratto prima di diventare ricercatore e mi è successo che se uno non conosce il mondo accademico quando dici sono professore a contratto dici ah professore universitario se uno invece conosce il mondo accademico il professore a contratto sa che sei un mezzo pezzente dipende poi dipende dall'università e mi è capitato appunto che dicevo sono professor a contratto e mi è capitato qualcuno che sapesse e mi facesse altre domande perché dice come fai a vivere una volta mi ha chiesto come fai a vivere e dico ma saranno ben cazzi la gente confonde l'income con il patrimonio il patrimonio è frutto di una vita di gestione del patrimonio stesso l'income è funzione istantanea di oggi se mi licencio per un mese non lavoro l'income zero come fai a mangiare cioè non è che il mio cibo è accoppiato con quanto ho lavorato oggi cioè quello che lavoro entra in un riempio una vasca da bagno e poi mi sciacquo con l'acqua che sta nella vasca da bagno se per un po' chiuso il rubinetto di qua questo di qua posso ancora aprire se la gente non capisce questo qui io non merito neanche che glielo spiego se cominciano a fare queste domande qui mi giro a metà frase e me ne vado ma come fai a vivere aspetta sto finendo di fare la domanda non è che in un rapporto sociale con altre persone puoi prendere andare ok forse poi vieni classificato da tutti come quello strano quindi la tua posizione è molto legata al fatto del comunque per me l'essere accettato socialmente nella mia realtà ma di piccola diciamo un po' di paese possiamo dirlo non lo so è comunque è importante quindi devo anche dare valore a ciò che pensa la gente di me fino a un certo punto sì certo la gente ti classifica sì perché in realtà diciamolo chiaramente si risolve tutto come ha scritto qualcuno facendo più che facendo part time perché non tutti i lavori possono essere fatti part time il mio no ad esempio è vietato non è previsto che ci sia ricercatore part time almeno nell'ordinamento italiano e vero Marco puoi risolverlo inventandoti degli altri mezzi di lavori che magari ti piace fare appunto che so cosa faccio faccio il maestro di sci anche se in realtà non è che devi trovare una scusa deve essere una cosa che ti piace fare sì esatto appunto faccio che bella narrativa il creatore di giochi da tavolo che è il mio sogno che è il mio sogno e prima o poi ci arrivo vedi cioè tu mi dici no e poi devi dire cosa faccio un cazzo sarebbe tristissimo se io arrivassi io avessi il sospetto anche il creatore di giochi da tavolo rasenta il cazzo ma che scherzo io sto a contatto con gente che li fa e la gente lavora 180 ore al giorno per trovare i soldi no 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 ma agli occhi agli occhi del pubblico agli occhi della casalinga di Voghera esatto soprattutto quello italiano che i giochi da tavolo sono quelli che vendono supermercato quindi penso che sia anche una questione un po' generazionale penso che ad oggi già io che sono molto più giovane di te me ne sbatto un po' diciamo che il fatto che io sono lontano dalle radici nel senso che se fossi vissuto sempre nello stesso quartiere magari forse avrei ancora molto più a cura no io se fossi a Milano probabilmente sarebbe diverso insomma chiaro già faccio l'investitore e amministro il mio patrimonio questa forse grande vesperia bentornato vesperio che era seguito il mio blog successiva ah allora un lettore di vecchia data se è lui se è lui e questo fa immediatamente scattare la domanda successiva quanti soldi hai la gente così al paese la gente ti chiede quanti soldi hai così al volo ma amministro il patrimonio che mi sono costruito come una carriera amministro il patrimonio te lo dico io ho un amico così che non ha mai non ha mai voluto dire lui praticamente penso che sia fatto un'azienda una srl per amministrare il suo patrimonio e lui dice che fa l'imprenditore l'imprenditore in realtà ti confesso che io stesso anch'io sono andato a fargli le pulci no sono andato a fargli le pulci a guardare l'imprenditore di cosa quindi mi sono proprio calato in questo ambiente l'imprenditore di no non glielo ho chiesto perché ho avuto il buon gusto di non chiederglielo ma sono andato a fargli le pulci l'imprenditore di cosa ah guarda ha lo stesso cognome dell'ex sindaco ah che palle però ma tu hai sempre vissuto in realtà nel paese sempre no ma pianco la realtà piccola che è capoluogo di regione qui stai a Trento tecnicamente capoluogo di regione stai a Trento io ho sempre vissuto tra Trento e Bolzano o a Trento o a Bolzano sempre in città però e comunque già tutt'altro rispetto a un paese ovviamente una città cioè io esco e è poco probabile che incontri qualcuno che mi conosce poco probabile non improbabile ma poco probabile quindi c'è già tutt'altro rispetto a un paese però comunque la gente che ti conosce è sempre eh Alex283 è chiaro ma questa c'è probabilmente a parte una questione culturale generazionale e anche probabilmente da aver vissuto tutta la vita diciamo in in una certa area geografica io che ho girato un po' di più ma neanche troppo ho amici che hanno girato nazioni e continenti a un certo tutto te ne sbatti le balle ma se sei cresciuto in realtà locale e ci tieni hai una rete di contatti lì e magari non lo so si non solo può avere un peso non facciamo gli idealisti può avere un peso non è quello che mi fa dire nella mia banca locale l'operatrice mi telefona e mi dice quanto voglio di fido perché perché e suo figlio è stato mio studente ha anche un un valore anche economico questo qui si chiama capitale sociale che ha anche altri impatti altre cose l'unica cosa è che difficilmente questa componente a me farebbe sì che io decido di ok non vado in early retirement cioè non mollo un lavoro solo perché poi non so cosa raccontare come storia non credo a parte non accade però che io mollo un lavoro senza avere un piano o comunque un'idea di dedicarmi ad un'attività che a me piace però comunque la mia soglia di quanto me ne frega di ciò che pensano gli altri è un po' più un po' più bassa non è zero ma è un po' più bassa anyway anyway super figo interessantissimo Paolo è stato molto molto bello molto molto bello e in effetti io sto adesso vedete l'effetto reddit io sto soffrendo di non aver risposto a tutte le domande che sono passate cavolo sto soffrendo quando monteremo la live probabilmente il montatore metterà anche la chat in sovraimpressione quindi te la puoi rivedere e prendere appunti poi faccio dieci ore a video risposte e via bene bene dove si trova lasciamo qualche per finire dove si trova dove potete trovare Paolo Coletti in questo senso il diritto di casa no quello no però diciamo che mi trovate su youtube sul canale youtube poi di solito scrivo Paolo Coletti lo cercano non penso che sia ma la gente non ce la fa aspetta come hai detto tu hai detto una volta una bellissima frase che l'avevo detta anch'io ed è se uno non è in grado di trovare la mia email non merita non merita di essere qui c'è questo è il mio sito è il mio sito che ha il difficilissimo nome www.paolocoletti.it e www.paolocoletti.com ok quindi ti nascondi dal pseudonimo Paolo Coletti esatto magari non mi chiamo così effettivamente ah non lo sapremo mai una valanga di publications una valanga insomma in realtà per la mia età sono anche limitate poi c'è i courses attenzione si ci sono anche i corsi ah questi sono i tre corsi che insegno adesso ah tre corsi che insegno adesso all'università c'è algorithm thinking è bello mi piace si su questo non è esattamente quello che tu speri però ok probabilistic thinking no vabbè comunque non voglio parlare adesso perché però ottimo qui trovate il link al canale youtube ovviamente my youtube channel e stile fino a questa volta investire tra i 20 e 50 mila euro stop silenzio che dico eresie qui chiaro tutti i file che uso nei video sono applicati anche qui wow gli excel i vari spreadsheet codice immagino a qualche parte si c'è c'è alcuni file di python si comunque ogni video ce l'ha linkato sotto hai anche tiktok ah si si ho fatto qualche video su tiktok 70 mila views di me che col sifone tolgo l'acqua dal tetto e mi esce per sbaglio l'acqua tu in faccia 70 mila views guardalo quello del sifone vai giù paolo loco paolo loco si paolo paolo loco 84 cos'è 84 su tiktok devi essere giovane 13 mila views 142 mila views oh quale dove ah le obbligazioni dell'eni ma non lo considero tiktok non lo considero come una robetta ah ok guarda guarda quello a tutta destra tutta destra 88 questo qua vasi comunicanti comunicanti per togliere la cosa bellissimo puoi mandarlo in play ce lo meritiamo domenio senza grondaie e devi ricorrere ai vasi comunicanti per togliere l'acqua dal tetto c'è uno parla di aspetta 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 vabbè qui ti hanno memato che funziona però il vasi comunicanti guarda sì una volta l'ho fatto per fare un un clistere a mia figlia che non non riusciva a fare quindi però non è stata una bella esperienza non ho fatto un tiktok a riguardo no niente va avanti così per un bel po' per vedere quant'acqua c'è sul tetto puoi fermarlo ottimo quindi abbiamo abbiamo youtube tiktok ma tiktok non lo considero molto instagram dico i fatti miei però ci sono i fatti miei ne so che non ci andate privacy no no potete andarci ma vedete me che vado a visita a castello che vado di qua di là non parlo di finale e poi sei sul linkedin no ah si ma ci sono in tuo onore proprio in mio onore si ne so che non l'avevo mai considerato ok ok poi ti ho aggiunto l'app per chattare esatto ho detto vabbè facciamoci linkedin non l'ho mai considerato perché c'è sempre il meme non si trova impossibile trovare lavoro con linkedin copiare copiare federico federico del mio cd a mi dice fallo anche tu fallo anche tu ma in teoria c'era rip files tu vai su emet.rip slash rip trattino files vai su una cartella drive con molti miei documenti non ho non ho dati così belli come quelli che ha paolo non ho codice sorgente da mostrare non ho spreadsheet da mostrare tranne quelli che sono pubblici hanno il loro link però bella idea no bella idea forse automaticamente io butto i file con un ftp perché sono ancora uno di quei vecchi che carica e robe sul web con ftp eroe con filezilla e il sito lo faccio a mani no questo qua non è fatto a mano il primo sito non fatto a mano che ho questo tutti gli altri li ho fatti a mano cioè scrivendo in html con le dita bene paolo abbiamo fatto notte come promesso è stato un piacere è stato un grandissimo piacere pensavo di arrivare a luna grazie mille per tua fortuna sono uno che si sta sono vecchio non ce la faccio per cui io invece apposta avevo dormito tanto stanotte per essere ben pronto ciao ciao a tutti è stato un piacere saluto a tutti ciao paolo io resto ancora un minuto per salutare gli altri e via ok ciao a tutti ah ok non è che è partito già il ride no che qui sono sicuro che è partito già ah c'è il ride ah c'è society vabbè troppo veloci troppo veloci ah se io rimango che succede se io rimango e parlo non parte il ride non parte il ride va bene vi saluto ragazzi ciao ci vediamo settimana prossima buone feste pasquali c'è qualche novità interessante settimana prossima ve la comunicherò con calma con calma ciao a tutti è stato bellissimo buonanotte ciao a tutti